Sì, sono presente. Consigliere Grasso, Giovan Battisa. Buonasera, ci sono. È in aula il consigliere Grasso, non l'ho visto. Sì, confermo. Buonasera, ci sono, segretario. Bene, perfetto. Consigliere Bartoli Roberto. Consigliere Bartoli Roberto. Consigliere Bartoli non c'è. Consigliere Cenerini Alessandro. Consigliere Cenerini Alessandro. Consigliere Cenerini non c'è. Consigliere Breschi Carla. Ci sono, sì, presente. Mi vede? Ma in aula, non la vedo. No, sono via web. Mi remoto. Eh, però non si vede in video. Si sente ma non si vede, consigliere. Non mi vede? Guardi un attimo. Non la vedo, aspetta. Ecco, ora la vedo, perfetto. Consigliere Breschi presente. Consigliere Cori Gabriele. Sì, sono presente. Buonasera a tutti. Bene. Consigliere Anutitino. Buonasera, sono presente. Grazie. Presente. Ottimo. Consigliere Bonacchi Federico. Buonasera, segretario. Buonasera a tutti. Tutti sono presenti. Segretario, c'è anche la consigliera Esapecchi. È arrivata anche la consigliera Capecchi in aula. Si alza per cortesia la consigliera Capecchi. Sono presente, segretario. Bene. 29 presenti, presidente Boniziano. Bene, grazie, segretario. Buonasera a tutti i consiglieri presenti in aula e i consiglieri collegati da casa. Buonasera a chi ci sta seguendo. Per chi ci sta seguendo, appunto, riprendiamo oggi i consigli comunali al TEDOPA pausa estiva. Li riprendiamo in questa nuova modalità mista. Quindi una parte di consiglieri, coloro che vogliono partecipare in presenza, appunto, sono nell'aula e un'altra parte sono collegati in videoconferenza. Per quanto riguarda le mie comunicazioni, comunico che oggi il consigliere Pellagalli probabilmente non riuscirà a collegarsi per motivi personali al Consiglio Comunale e non ho invece altre comunicazioni da fare. Inizierei quindi subito con le comunicazioni, passo la parola al Sindaco e poi passiamo alle comunicazioni dei consiglieri. Prego. Non si potrebbe intervenire, ma vista la cosa eccezionale, termine. Sì. No, no, niente. Volevo soltanto esprimere la mia soddisfazione nel potersi rivedere finalmente in presenza, ma anche per il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio Comunale e della struttura, per garantire una modalità mista che così a colpo d'occhio dovrebbe essere funzionale, naturalmente migliorata, lo dico per i consiglieri, ma anche per chi ci ascolta eventualmente nelle prossime sedute, qualora si riscontrasse tra di noi delle mancanze, dei difetti e delle cose che possono correggere. Ci tengo a dire che a chi ci ascolta, che ha potuto seguire i nostri lavori, ma anche al di fuori, a volte ci si fa un'immagine distorta, ma devo dire che il Consiglio Comunale tutto in questi mesi di lockdown, anche non in presenza, ha lavorato molto bene, portando numerosi atti, portando numerose interpellanze e lavorando anche sui provvedimenti che sono stati approvati come regolamenti in modo, mi sembra dire, più corretto possibile, date le circostanze. Ci tenevo a dirlo perché poi alla fine quell'immagine si dà delle istituzioni, è molto importante al di fuori. Mi sento di dire che questo Consiglio Comunale tutto, maggioranza e opposizione, ciascuno nei propri ruoli, con le proprie prerogative, mi chiedo di dire che abbia lavorato bene. Adesso inauguriamo questa modalità mista, ci sono tutti i dispositivi tecnologici, ripeto, che possono essere migliorati, quindi vi auguro un buon lavoro e comunque, come sempre, rimango a disposizione per tutti voi, mi avete comunque contattato di persona o telefonicamente per qualsiasi esigenza. Quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti i consiglieri anche per questa annata difficile con cui hanno contribuito alla vita democratica della città. Grazie. Bene, grazie. Io vorrei riprendere anche quanto detto dal Sindaco, perché non l'ho detto in premessa, ma è stata una mia dimenticanza e mi scuso, vorrei ringraziare tutta la struttura, il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale, il Dottore Vangelisti, la Dottoressa Cori, tutto il CED e magari mi dimentico anche qualcuno per la collaborazione di queste settimane, perché appunto non è stato semplice, non avendo gli spazi comunque idoni a consentire la presenza di tutti, appunto, organizzare questo rientro in una modalità, diciamo, seminormale rispetto ai tempi anticovid, per cui io vi ringrazio. E comunico, diciamo, che questo Consiglio, per andare un attimo più sul formale, si tiene secondo delle disposizioni che la legge, diciamo, consente di adottare al Presidente del Consiglio Comunale, che sono state condivise con tutti i capi gruppo. Per quanto riguarda la Giunta, è presente in Aula soltanto i consiglieri che possono essere presenti in Aula, soltanto consiglieri che hanno da rispondere a interpellanze o presenziare a mozioni o presentare proposte di delibera, mentre gli altri si possono collegare online. Non so se, visto che è intervenuto anche il Sindaco, se ci sono interventi da parte dei consiglieri, ovviamente per chi è da casa valgono le stesse regole di sempre, chiedere la prenotazione di intervento tramite Webex, io ho il PC qui accanto e vedrò chi chiede di intervenire. Bene, allora non ci sono interventi, per cui andiamo alle comunicazioni dei consiglieri comunali, passo la parola al consigliere Maglione. Prego consigliere. Grazie Presidente, Segretario, Sindaco, Assessori, colleghi e colleghi e cittadini che ci ascoltano, ben trovati. e la comunicazione con la quale mi preme portare all'attenzione del consiglio riguarda i lavoratori che è l'azienda che ha avuto in subappalto le opere di realizzazione del fabbricato in viesteglio. Qui sappiamo tutti qual è stata la vicenda, velocemente dopo magari dirò due cose anche su, anche per ricapitolarlo un attimo, ma quello che credo importante in questo momento sia che tutti gli attori, in qualche modo istituzionari, quelli che sono gli organi di controllo, i sindacati e chiunque abbia in qualche modo la possibilità di dare un sostegno, che non sia solo una solidarietà esclusivamente di facciata, ma che serva per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su una vicenda che, al di là poi di responsabilità che dovranno essere accertate dagli organi preposti e capire bene quale siano poi le eventuali responsabilità dei soggetti che intervengono e che sono attori di questa situazione. Il dato di fatto gravissimo è che ci sono diversi lavoratori dipendenti, quindi questa azienda subappalto, che denunciano di non riscuotere i loro stipendi da tre mesi. Sapete che c'è stata una manifestazione anche abbastanza forte da parte loro per denunciare questo stato di cose, ci sono stati anche dei ludevoli sostegni anche da parte dei cittadini che vivono in quella zona, che si sono resi conto delle enormi difficoltà che questi lavoratori attraversano. Ripeto, non si può fare in questa sede certo un processo sommario per capire quali sono poi i dettagli della vicenda e trovare i responsabili perché sarebbe assolutamente approssimativo. Il fatto è che questi lavoratori sono senza stipendi ed è una cosa che dobbiamo tutti insieme portare alla luce e contribuire a far sì che comunque in qualsiasi modo, forse anche con un sostegno pubblico, questa attenzione che tutte le istituzioni e la politica in primo deve avere non venga meno. Ora su questo voglio essere molto chiaro e non fraintendibile perché si sono sentite anche delle polemiche a mio avviso strumentali sulle eventuali responsabilità dell'amministrazione Tomasi sulla vicenda. Io sapete che cerco nei limiti del possibile di essere obiettivo. C'è da dire che in questa vicenda, cioè quella che appunto ha portato a questa situazione, non c'è alcuna responsabilità dell'amministrazione comunale, in questo caso della giunta Tomasi, come non ci sarebbe per nessun'altra amministrazione comunale, perché si tratta di rapporti tra privati, di impegni evidentemente pare da qualcuno gravemente disattesi, ma qui finisce la questione per quanto riguarda l'amministrazione. Certo è che, lo dicevo prima, lo stimolo che può avvenire da questa comunicazione all'amministrazione è quello di attivarsi in tutti i modi con appunto il prefetto, si può parlare di un tavolo di comunque concertazione che deve essere aperto, di stimolare tutto quanto è possibile e in tutti i modi per, ripeto, mettere in evidenza questa situazione e a rivedere una soluzione. Chiudo solo velocemente dicendo una cosa. Ed è qui che invece l'aspetto e responsabilità però indirette che niente hanno a che vedere con la situazione dei dipendenti non possono non essere ricordate. E stimolo in questo caso consigliere di maggioranza, in particolare il nostro decano Pagliai, che spesso si limita a battute o ai moi sotto i post senza argomentare, a dimostrare in quali termini questa alienazione di quel terreno che questa giunta ha scelto di vendere, in base a quale normativa questa amministrazione era costretta a farlo. Perché non c'era nessun obbligo. L'area era inserita nel piano delle alienazioni, questa amministrazione ha scelto legittimamente dal suo punto di vista di vendere e di far realizzare quel fabbricato, ma che non si venga a dire, a meno che non ci siano elementi oggettivi di supporto incontrovettibile e non emoi o cose del genere, che questa vendita fosse in qualche modo inevitabile. L'amministrazione deve assumersi la propria responsabilità di quella scelta. E quindi, purtroppo in questo caso, tra l'altro, chiudo veramente Presidente, sarebbe anche singolare che venisse fuori invece una impostazione diversa, perché ricordo che Villa Venti, che risulta ancora inserita nel piano delle alienazioni, è oggetto di un progetto, un piano di recupero che questa amministrazione ha proposto per Salvo Renzo. Quindi è evidente che avere il bene inserito nel piano delle alienazioni non vuol dire assolutamente doverlo vendere. E quindi questo è un altro dato, credo, oggettivo e dobbiamo cercare di essere seri quando diciamo le forze. Grazie. Bene, grazie consigliere. La parola al consigliere Alberto. Grazie Presidente. Intanto buonasera a tutti i colleghi consiglieri, al sindaco, agli assessori e ai cittadini che, dopo un po' di tempo, un bel lungo tempo, causa ferie e altre questioni, ci ritroviamo a dibattere in un consiglio comunale in versione doppia, in presenza e in via telematica. Comunque le nostre funzioni, come diceva il sindaco, ognuno di noi le ha svolte nei termini dovuti, impegnandosi per questa città. E in questa città, appunto, grazie al consigliere Maglione, sono successe alcune cose. Una è che ha portato alla luce una vicenda passata neanche tanto tempo fa, via Stelvio. Una scelta dell'attuale amministrazione comunale, quella di edificare con edilizia cosiddetta agevolata, uno dei tanti spazi possibili a Pistoia e sicuramente, a mio modo di vedere, non il primo, ma forse uno degli ultimi evidentemente da poter edificare. Molti altri potevano consentire questa operazione, ma questa è una vicenda che ormai abbiamo visto e dibattuto per altre storie, per altri momenti. Io personalmente, a nome anche del Partito Democratico, ho partecipato alla presenza, non facendo grandi acclamazioni, anche la consigliera Cotti, per esempio, nel portale Solidarietà a quei lavoratori di un'azienda napoletana che in subappalto, è forse qui la questione che noi come Consiglio Comunale, modestamente il Sindaco del Primo, può porsi davanti a queste vicende, ma sicuramente senza responsabilità nostre. Ma comunque il primo cittadino è il punto di riferimento per gli aspetti che cascano addosso alle eventuali questioni che riguardano la nostra città. Come tale penso che sia stato giusto che si abbia incontrato i dipendenti, so che questo l'ha fatto, il giorno stesso che anch'io sono stato presente dopo naturalmente, ma alla chetichella, perché credo che questo era il punto, senza fare grandi acclamazioni, ma il problema nasce appunto nei subappalti, nelle subappalti che naturalmente ne subiamo. Lo subiamo non in questo caso specifico e basta. Tutta la città, con diversi cantieri, molti lavori sono in subappalto, anche quelli delle aziende compartecipate. E sappiamo, al di là dell'eventualità, e in questo caso c'era una vicenda economica, quella della ritribuzione, ma molte altre questioni e molti altri problemi si pongono. Per esempio, lavori non ultimati, lavori presenti, ho segnalato come di dovere da consigliere all'amministrazione comunale, molti lavori avviati, finiti male, non terminati, cantieriati con non forme di sicurezza massima. Quello che dico lo posso provare, perché naturalmente sono abbastanza attento a quello che gira intorno a noi. E questa è una preoccupazione, al di là di via Stelvio, che credo sia giusto che ci sia un tavolo per chiarire fino a un fondo, se questi primi tre mesi saranno già pagati, saranno ulteriori questioni da affrontare, ma un po' quelle che sono le difficoltà con i subappalti. Era questo che ci tenevo e ritenevo opportuno comunicare all'interno del Consiglio Comunale, perché comunque il Comune di Pistoia è il padre, la madre di quelli che sono gli interventi in tutto il nostro territorio e come tale dobbiamo essere partecipi alla risoluzione delle questioni, ma soprattutto alla sicurezza e soprattutto ancora all'aspetto gestionale economico delle ditte che si prendono dei subappalti, magari a ribassi eccessivi e poi ci troviamo davanti a quelle problematiche che poneva il Consigliere Maglione, ma anche altre questioni che sono emersi. Ho concluso, Presidente, la ringrazio per avermi ascoltato. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi né dall'aula né da casa, per cui da casa, insomma da remoto. Per cui proseguiamo con la comunicazione successiva, passo la parola alla Consigliera Nuti. Prego, Consiglieri. Signor Presidente, signor Sindaco, Assessori e colleghi consiglieri. Devo dire che c'è una certa emozione per essere qui in aula e parlare all'etrofono. Credo che sia stato giusto veramente insistere, perché la vita fuori del Consiglio e di quest'aula è sicuramente più viva se vissuta direttamente. La comunicazione di oggi si riferisce ad una situazione che, ahimè, si protrae da alcuni mesi con una certa consistenza e urgenza. E si tratta della mancanza di liste, di agende, presso il nostro CUP di Pistoia per diverse, se non molte, prenotazioni di visite e di accertamenti specialistici. Le persone che si sono rivolte a me hanno denunciato la volontà, hanno espresso la volontà di eseguire, anche come suggerito dai loro specialisti, dai loro medici, gli accertamenti presso l'ospedale di Pistoia, perché è fornito anche di apparecchiature molto all'avanguardia e sofisticata. Si sono presentati al CUP con queste schiette di accertamento a giugno e gli è stato detto che l'agenda era chiusa, di ritornare successivamente, perché probabilmente sarebbero arrivate delle possibilità di apertura. contemporaneamente è stato offerto loro di andare in altri sedi, in particolare all'ospedale di Prato, dove alcune prestazioni sono erogate nel giro di pochi giorni e altre a distanza di me. Le solite persone sono ritornate nel mese di luglio, è stata la solita offerta, nel mese di agosto hanno evitato, nel mese di settembre si sono sentiti rispondere alla stessa identica maniera. Alcune prestazioni a Prato, poche a Pescia, moltissime a Prato, alcune a distanza di una settimana, alcune a distanza di mesi, si parla di aprile-maggio 2022. Pistoia ha le agende non chiuse, inesistenti, su molte prestazioni. Allora, è giusto dire le conseguenze di questo. La prima è che riducendo i presidi sanitari dove poter eseguire le prestazioni è chiaro che laddove si fanno si arriva a delle agende che intaccano i mesi del 2022 in una maniera importante perché si va all'aprile-maggio. La seconda è che noi risultiamo forniti nella nostra sede di apparecchiature che non vengono utilizzate, il che fa pensare ad una mancata presenza o assenza di specialisti in grado di poter far funzionare queste apparecchiature e di dare i servizi a questo territorio. La terza è quella di una città, di una provincia, di un territorio che rispetto a quello poco distante di Prato risulta molto molto deficitare. E questo è il punto che se in quest'aula direttamente non può essere di competenza lo diventa in una maniera diciamo indiretta ma eticamente molto forte perché queste istanze di tanti cittadini vengono portate ai contesti necessari dal momento che si denuncia la mancanza durante il covid di tutta una serie di accertamenti che hanno portato e che potranno portare a delle problematiche altre rispetto al covid ma ugualmente importanti e necessarie di interventi e di eh e di analisi di accertamenti e che quindi noi non siamo in grado di poter rispondere. e avere pochi servizi sul territorio significa avere meno servizi in tutta l'Asle 3 Toscana e vuol dire anche che i nostri cittadini per avere dei servizi o accettano di spostarsi o altrimenti vanno a pagare le prestazioni. Io credo che un impegno da parte della Giunta ulteriore a quello che sicuramente anche nelle commissioni svolte è stato profuso sia assolutamente necessario e questo con credo un ragionamento di partisan perché consiglierà la cosa a concludere i cittadini sono cittadini sempre e hanno assolutamente diritto ad essere trattati come quelli di Praud. Bene grazie ci sono interventi prego consigliere Grazio. Vorrei intervenire anch'io. Saluto tutta la Giunta i colleghi consiglieri e colleghi a casa. Sì purtroppo devo constatare che mi risultano anche a me questi disagi sulle prenotazioni. Pistoia e non deve essere inferiore a nessuno. Spostamenti di persone specie se anziane fuori della città o in zone di provincia o addirittura in altre città come Prato come San Marcello dove io stesso ho accompagnato due persone anziane in un periodo come questo particolare di ancora di Covid e credo che non non sia una bella cosa per la nostra città. Grazie. Bene grazie. La parola adesso alla consigliera Brischi. Sì buonasera a tutti innanzitutto ben trovati ben tornati a tutti ringrazio il sindaco per il suo il suo pensiero che comprendeva tutto il consiglio comunale. Voglio ringraziare poi particolarmente la consigliera Nuti per aver portato una problematica che come sapete mi è cara. Praticamente lei ha fatto un quadro della situazione che era anche presente ante Covid. Tanti anni che si dice che Pistoia veniva spolpata del suo tessuto produttivo del suo tessuto diciamo non solo produttivo ma del tessuto di diagnostico a livello dell'ospedale non c'era una grossa differenza di personale fra Pistoia e Firenze, Pistoia e Prato e è andata sempre più aumentando nonostante i tentativi che noi abbiamo fatto sinceramente per far sì che Pistoia potesse rimanere in linea con le altre città. Pistoia dell'enda est come Cartagine forse. Il motivo per cui la politica non ci ha difeso non mi è chiaro e non voglio ora fare illazioni. Purtroppo la situazione è andata avanti in questo modo. Poi è arrivato il Covid che come sapete ha messo a nudo tutte queste deficienze, tutte queste carenze e la gente è costretta a seguire un programma di prenotazioni che come abbiamo già detto alcuni mesi fa ripetendolo anche l'assessore Celesti, l'assessore Celesti l'ha messo, ha provato varie volte a intervenire con il nuovo CUP 2.0 che si è dimostrato una frana incredibile. Ciò che mi risulta strano è che in un articolo recente di qualche settimana fa si diceva che erano state implementate le visite, Tina, si diceva che le visite erano aumentate e c'era una grossa possibilità di fare visite specialistiche anche qui sul territorio, anche vicine. La cosa non mi risultava e ora se me lo confermi che praticamente questo non è vero. La nostra gente per fare le prenotazioni o va in Emilia Romagna o deve andare dall'altra parte della Toscana, questo esisteva già prima del Covid oppure viene a pagamento, va a pagamento, libere i professionisti, non ci sono altre possibilità. Comunque la sanità pubblica è stata distrutta e non so quanto sia possibile, purtroppo io sono piuttosto pessimista perché tanti anni che lo dico, non so quanto sia possibile ribaltare la situazione e che Pistoia sia prima, come dico io, prima Pistoia. Il nome è ovviamente emblematico per tentare di risolvere una situazione incancrenita ormai. Vi ringrazio dell'attenzione. Bene, grazie consigliera, la parola consigliere Tucci. Sì, grazie, buonasera a tutti ancora, sindaco, presidente, colleghi, consiglieri, assessori. Anch'io ringrazio veramente la consigliera Nulluti che ha nuovamente messo all'attenzione dell'Aula e di tutti noi questa questione. È un tema annoso, come ricordava poco fa anche la collega Breschi, perché a più riprese è stato sollevato. Direi che ormai sono anni che solleviamo questo tema da quando questo consiglio si è insediato. O con mozioni, o con comunicazioni e quant'altro. Devo dire che il Covid si ci ha messo su, ma la situazione è peggiorata assai. A Pistoia cosa si riesce a fare? Forse qualche visita si riesce a fare se è come primo accesso, cioè è quando uno, ma rarissime volte, ma c'è anche la continuità. Ci sono i pazienti che fino ad alcuni anni fa erano stati seguiti dagli specialisti pistoiesi, seguiti dai nostri medici e e che oggi non possono più esserlo. Si ritrovano una volta a fare un controllo da una parte, un'altra volta in un altro ospedale, in una consigliere non sentiamo più. Pronto? Sì, mi sentite? Sì, forse è andato via l'audio. Credo che l'aula di questo, ma il sindaco, gli assessori si debbono fare carico presso chi di competenza, su questo rimuova questa situazione qui, perché è veramente caotica e ce ne va della salute dei cittadini anche, perché il cittadino vorrebbe continuare con la propria struttura che ha seguito sempre la sua questione con il suo medico, con il suo specialista, ma più che altro è la struttura. Poi può trovare anche un altro medico. Certo, non è detto che ci debba trovare sempre il solito, però almeno c'è una continuità su questo. Inoltre, credo, anche penso in questo mese, se non nel mese successivo, ci troveremo, e chiudo veramente, a analizzare un'altra mozione che abbiamo presentato, che è quella della carenza di personale, perché, diciamo, Pistoia, come diceva la collega Breschi, si è sempre più impoverita. Già è partita, diciamo, molto bassa. Ora poi veramente siamo ad un livello che tra infermieri e medici, cioè la situazione è veramente difficile. Basta, penso, lo si può fare tutti, parlare con un medico ospedaliero perché ci dica qual è la situazione reale all'interno, nonostante che poi ad altri livelli invece si neghi e si dica che va tutto bene e magari chiudo su CUP. Ecco, quello che veramente non va è questo nuovo sistema che è stato attuato che fa impazzire i cittadini. Oltre a non trovare servizi, vanno una, dieci, cento volte e non riescano mai ad arrivare a capo per riuscire, o rarissime volte, a prendere appuntamenti. Credo che anche sul sistema operativo debba essere sollevato una questione e valutato il perché non si riesce a farlo funzionare a modo. Basta andare a togliersi il sangue e si vede le file enormi che ci sono ora, cosa che prima non c'erano quando c'era il sistema precedente. Gli operatori sono gli stessi e gli utenti uguali e credo che questo sia una valutazione da fare. Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? No, intervento dei consiglieri. Passo la parola al prego, consigliere Maglione. Sì, grazie. Sarò velocissimo perché sarebbe inutile che ripetessi quanto è stato specificato dai colleghi, quindi le specifiche mancanze, il fatto che ci siano, facendo delle comparazioni con altre città, evidentemente, la qualità dei servizi in termini di tempistica, di prenotazioni e quant'altro, e manifesta un disallineamento le cui cause evidentemente devono essere poi definite anche nell'ambito comunale. A tal proposito, insieme ad altri gruppi, cito per correttezza, proprio con la consigliera Breschi, Gori, con Tucci, Alberti, Cotti, Grasso e quindi anche a firma del Movimento, abbiamo presentato una specifica mozione per quanto riguarda proprio questo ambito, per cercare di vedere quali sono le possibili integrazioni, quelle criticità che poi determinano questa serie di veramente importanti e gravi di servizi, perché ricordiamoci che stiamo parlando di salute pubblica e quindi credo che non ci sia tema più importante di questo. È chiaro che pur riconoscendo una competenza limitata delle amministrazioni locali sulla questione, quello che appunto veniva detto prima e veniva evidenziato circa la diversa qualità dei servizi, denuncia, manifesta in maniera incontrovertibile che qualcosa sul locale deve essere profondamente rivisto perché la competenza della sanità regionale ma poi evidentemente sul locale queste diversità sono dovute a questioni che riguardano anche le amministrazioni comunali. Io mi auguro che quella mozione e quello stimolo che quella mozione dà in questo senso poi possa trovare un sfogo, un'applicazione che vada anche proprio ad intervenire su questi aspetti. Noi in commissione abbiamo audito anche appunto le categorie professionali, quindi l'ordine dei medici, degli infermieri, le organizzazioni sindacali e questo al netto anche del covid, cioè di una situazione che evidentemente ha esasperato queste criticità ma che come correttamente veniva detto in precedenza erano presenti anche prima e negli ultimi anni evidentemente si sono acuite. Abbiamo il dovere di intervenire e fare tutto il possibile. Grazie. Bene, grazie. Allora adesso la parola al vice sindaco Celesti, ti prego. Grazie presidente, signor sindaco, colleghe e colleghi della giunta, consigliere e consiglieri. Vorrei ricordare a quest'aula, bene ha detto la capogruppo Noti, che questo è un tema che è stato e sarà non di parte ma di parte, Sanna, perché ricordo al consigliere comunale Etucci che già io sono entrata in quest'aula come oppositrice nel 2012 con allora l'assessore consigliere Anuti. Abbiamo fatto tantissime mozioni, abbiamo fatto commissioni, abbiamo ascoltato il tanti attori della sanità, quelli che poi la amministrano localmente ma anche e soprattutto quelli che la programmano e il problema delle liste di attesa era un problema che è datato consigliere Etucci da almeno dieci anni su questo territorio e che invece di trovare tra virgolette una via non di uscita ma una via di equilibrio tra quello che è il percorso della provincia di Pistoia, non parlerei solo e soltanto del comune di Pistoia, rispetto alle città limitrope, lasciamo perdere la fiorentino centricità, sicuramente è andata peggiorando. È andata anche peggiorando perché quando si è deciso di fare un'unica ASL, capogruppo Nuti, Toscana Centro, Pistoia è stata sì, come posso dire, acquisita all'interno della grande ASL, ma certamente capogruppo Breschi spero che condivida, certamente con il suo ruolo che è sempre stato quello di essere molto secondaria e questa secondarietà in campo di sanità risale nel tempo. Certo il Covid ha dato il colpo di grazia ma in quest'Aula abbiamo parlato delle problematiche, che lo ripeto, almeno da quando ci sono io, da dieci anni e penso, spero che con i prossimi anni si riesca a vedere meglio la situazione, ma con i tagli che in questo momento sono stati annunciati per mille motivazioni che non è questa la sede alla sanità, il bisogno di rientrare consigliere e tucci nei bilanci, la vedo particolarmente complicata e complessa perché sarà molto più semplice consigliere e consiglieri tagliare i servizi che fare altri tipi di tagli. Quindi non so bene a quale prestazione lei si riferisca perché ho capito che erano di diagnostica strumentale e non erano di visite specialistiche e su questo lei ha perfettamente ragione perché in carenza di risorse umane, cioè non solo di medici, il consigliere tucci dice basta andare a parlare all'ospedale e parlare non medico, no, basta parlare con gli infermieri, basta parlare con qualunque operatore all'interno, persino con le OS ci si rende conto della carenza cronica e ormai datata nel tempo di personale. Vi potete immaginare in questo momento dove c'è da ricoprire un buco credo di oltre, sapete tutti, 400 milioni di euro entro la fine dell'anno perché altrimenti il bilancio regionale va in forte crisi, figuratevi se si va a implementare le risorse umane. Considerate che al di là della fase transitoria dove ci sono anche dei provvedimenti legati ovviamente alla vaccinazione che portano un'ulteriore problematica perché nel momento in cui io intervengo, sospendendo, è ovvio che non trovo la soluzione di compensare, vado ulteriormente a creare problematiche di risorse umane. Quindi le risorse umane sono ormai bloccate perché c'è il blocco delle assenzioni, sono bloccate perché Capogruppo Breschi vent'anni fa dicevamo che era sbagliata la programmazione universitaria ed era sbagliata la programmazione delle specializzazioni. Dopo vent'anni continuiamo a dirlo e dopo vent'anni nessuno si sta occupando né della programmazione universitaria né della programmazione degli specialisti. medici molto triste molto triste sull'ospedale vi ricordo che tra il 2022 e il 2023 quindi annuncio già la prossima comunicazione non so chi la farà ci sono circa 30.000 persone nel comune di Pistoia in questo caso che rimarranno senza medico di medicina generale perché la mia generazione quella che va dagli anni 50 agli anni 55 compiranno il settantesimo anno vanno in pensione. Attualmente non ci sono i medici di medicina generale perché c'è un rallentamento anche nelle specializzazioni e quindi avremo intere zone del territorio e il sindaco non sarà solo la zona del bottegone ma anche quelle più periferiche quelle che hanno più difficoltà che avranno difficoltà ad avere un proprio medico di medicina di base. La situazione dei pediatri la sapete benissimo quindi la situazione è particolarmente seria e complessa. Lo è sul nostro territorio. Noi ci facciamo carico consigliere Anuti come ha fatto lei quando era nel ruolo e ha cercato di risolvere ma le nozze con i picchi secchi è difficile da farle e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Questa tratocentricità una volta era la fiorentinocentricità la lascio stare. Questa è sicuramente un dato obiettivo però sta a tutti noi fermare questa situazione. Lo andava fatto e lo tempo era difficile anche allora. Lo proviamo a fare ora per quel che si possi tenendo presente però due cose. Il buco di bilancio con le difficoltà che ci sono adesso delle assunzioni, la mancanza di medici specialisti, la mancanza di infermieri perché anche lì le scuole più di tanto non possono fare se non si riprogrammano. Tutto questo lo paga una sola persona. Il cittadino e non il cittadino, lei ha fatto l'assessore alle politiche di inclusione sociale, non il cittadino che può pagare ma va d'oltre. Il cittadino che conosce. Quello che conosce si muove nel sistema. I più fragili rimangono sempre ai margini. Se lei va a vedere le liste di attesa nella diagnostica strumentale si accorgerà che paga sempre il più debole e questa è l'iniquità. Il nostro è un sistema sanitario finché è tale. Pubblico, universale ma solidale. La solidarietà mi sembra stia diventando una chimera. Grazie veramente Cacboglupo Nuti e Conti sul fatto che me ne faccio carico. Bene, grazie. Allora passiamo. Sì, prego consigliera Nuti. Sì, grazie Presidente. Sono certa, Assessore, che si farà carico di questa problematica che è stata affrontata in molti anni e sempre con tanta attenzione, proprio perché questa carenza va a pesare sulle persone più fragili, quelle di cui noi ci dobbiamo in primis preoccupare. Ho sentito, so anche che è un tema che ha visto delle commissioni e delle comunicazioni. Io mi sono sentita di intervenire con questa comunicazione, perché quello che mi risulta, da quanto mi dicono molti cittadini, è che mentre prima almeno un'agenda c'era e sentivano la risposta era, in questo momento è conclusa, però si riaprirà, ritorni tra un mese, si riaprirà. E quindi c'era, come dire, la corsa a quei posti, ma qualche posto c'era, ora non esistono. E questa è una situazione ex novo. Ecco perché non è mai stata sostenibile, ora lo è ancora di meno, perché non esistono le agende. Non esistono. Bene, grazie. Adesso passiamo all'ultima comunicazione che è quella della consigliera Breschi. Prego, consigliera. Sì, posso dire una cosa in coda alla consigliera Nuti? Rapidamente e poi passi. È vero, abbiamo suonato la campagna dal morto per la sanità pistoiese. Era meglio quando andava peggio, quando c'erano i comitati di gestione e c'era un controllo politico locale delle risorse, delle distribuzioni. Allora andava molto meglio. E qui, non continuo sul discorso sanità, perché è anche molto doloroso per me, sinceramente. Vado a scegliere. Come dice? Prego, con la comunicazione. Sì, sì, sì. Vorrei porre l'attenzione su ciò che è accaduto al signor Ginetti alcuni giorni orsono, un nostro cittadino, che temporaneamente in stato di indigenza si è recato presso gli uffici preposti alla distribuzione dei buoni pasto, situati all'interno della biblioteca San Giorgio. E il signor Ginetti non è stato fatto entrare, come candidamente gli hanno detto al front office, perché non era munito di green pass. Il signor Ginetti ha scenato una protesta, incatenandosi alla porta della biblioteca, prontamente intervenuta l'assessore Celesti e che per risolvere il problema. Ma mi chiedo io, queste problematiche sociali sono state sufficientemente attenzionate dall'amministrazione? E mi chiedo anche, ignorantemente, se ubicando gli uffici in maniera diversa, magari con uno sportello dedicato, sarebbe possibile evitare l'obbligo di green pass? Ubicando, appunto, dicevo, in maniera diversa, con uno sportello dedicato, questi uffici preposti alla distribuzione dei buoni pasto. Infine, dato che si parla molto di soldi per il sociale, sarebbe possibile istituire un fondo per aiutare le persone che nel tempo devono fare tamponi su tamponi perché non hanno il green pass? Magari non ce l'hanno perché sono malati, hanno altre problematiche, o non ce l'hanno perché hanno deciso di non vaccinarsi. E questi non sono delinquenti, sono persone normali che decidono, si può ancora decidere, no? di non vaccinarsi. Quindi, forse, se questa ipotesi potesse essere sostenibile, sarebbe una cosa, secondo me, importante. Mi verrà risposto che la legge è legge, che ci sono disposizioni già in materia, ma io pongo una questione sociale, una questione di protezione dei più deboli, dei più bisognosi, una questione di civiltà. Grazie. Bene, grazie. Passo la parola al consigliere Gori, che lui aveva richiesto una comunicazione, ma si interisce nell'ambito di quella della consigliere Abreschi. Prego. Grazie, presidente, signor sindaco, assessori, colleghi consiglieri, cittadini che ci state ascoltando. Riparto sul lascio passare verde, da dove mi fermai il 26 luglio, aggiungendo la parola lavoro. Oggi, purtroppo, queste due parole vanno a braccetto. Per sgombrare ogni campo, ripeto, che non sono contrario ai vaccini. Preciso che i vaccini Covid-19, così definiti, sono definiti tali in modo improprio, in quanto sono soltanto sieri, sperimentali e non vaccini. Il Green Pass è uno strumento anticostituzionale, che limita la libertà degli individui, dei cittadini italiani. E qualora il governo italiano volesse introdurre limitazioni e restrizioni coercitive, ha l'obbligo, prima e non dopo, di rendere obbligatorio il vaccino, che al momento è soltanto un siero sperimentale. La Costituzione è italiana, e ne vado a citare alcuni pazzi. Consigliere Gori, parli più vicino al microfono, se no qui in aula abbiamo qualche problema ad ascoltare. Provo ad avvicinare il microfono. Meglio. Scusi, mi serve un po' di tempo. Migliorata? Sì, 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 sì. Grazie, grazie. Dicevo che vado a citare alcuni passi della Costituzione, visto che proprio lei, Presidente, a mezzo social, mi ha chiesto con stupore dove il Green Pass potesse mai limitare le libertà personali dei cittadini italiani. All'articolo 32, e lo cito per intero, esso così recita «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività garantisce cure agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'importanza centrale di questo articolo l'assume nel secondo comma, dato che sancisce la libera autodeterminazione del malato in merito al trattamento sanitario, il quale può essere imposto esclusivamente nei casi previsti dalla legge trattamento sanitario obbligatorio, quale a dire TSO. L'articolo 13, che inizia affermando che la libertà personale è inviolabile, per poi terminare con «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone». Come avrete osservato, questo articolo parla di punibilità in caso di violenza morale. Ora vi faccio un esempio a tale riguardo di violenza morale per palese discriminazione. Lunedì scorso entro in un ristorante assieme ad un'altra persona. Il ristorante mi chiede il Green Pass, mostro il cartaceo che mi è stato consegnato dopo il tampone. Mi viene scansionato e mi fa entrare. L'altra persona mostra il Green Pass. L'app del ristoratore non riesce a leggere il codice QR. gli dà errore di lettura. Pertanto io posso entrare e consumare chi è assieme a me. No. L'assurdo è che il tampone l'avevamo fatto insieme, nello stesso istante, nella stessa farmacia, avendo pagato entrambi i 15 euro. Il foglio che conteneva il codice QR, il quale riportava il luogo, la data, l'ora in cui era stato fatto e che il tampone aveva una negatività, era stato stampato dalla stessa stampante nello stesso, medesimo istante. Ora ditemi voi, se questo allontanamento dal ristorante non è una violenza morale perpetrata ai danni del soggetto allontanato. All'articolo 3, nella sua parte finale, parla della rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza e della tutela dei lavoratori nell'organizzazione economica e sociale del Paese. Ciò è in palese contrasto con quanto asserito da questo articolo con ciò che ha detto un nostro collega il quale ha asserito che nell'azienda dove lavora i lavoratori sono costretti a fare il vaccino in caso contrario non riescono a varcare i cancelli. Qui si parla di una grande azienda che calpesta i diritti dei lavoratori mi domando ma i sindacati dei lavoratori oggi dove sono? Sveglia sindacalisti ma lo capite che stanno discriminando con questo sistema i diritti dei vostri iscritti? L'articolo 120 parla delle regioni Consiglio mi deve dare ancora un minuto Presidente grazie questo dice espressamente nel limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale nel disprezzo più totale di questo abbiamo sentito uscire dalla bocca di un governatore di regioni frasi e parole di questo tenore creeremo per il 30 settembre luoghi interdetti a chi non hai Green Pass non ti sei vaccinato stai a casa se non hai il Green Pass non sei degno di entrare in un ambiente pubblico se non sei vaccinato al lavoro non ci vai queste sono frasi pesanti arroganti soprattutto discriminatorie verso i lavoratori e i cittadini italiani bene grazie concludo Presidente no Consigliere deve concludere 30 secondi concludo devo concludere concludo proprio dicendo che il 26 luglio implorai il sindaco e il vice sindaco per mettere in pratica azioni mirate alle difese delle libertà sancite dalla Costituzione italiana per i nostri cittadini pistoiesi purtroppo a distanza di oltre un mese e mezzo nulla è accaduto ancora una volta si è preferito all'agire rispondere con un silenzio assordante assordante grazie sindaco grazie grazie ci sono altri interventi ci sono interventi non ci sono interventi per cui proseguiamo abbiamo terminato con le comunicazioni andiamo alle interpellanze e abbiamo l'interpellanza presentata dal consigliere comunale Gori del gruppo che sta comune relativa a Villa Pollina laboratorio di attica ambientale passo la parola al consigliere Gori consigliere però la invito a non muoversi troppo davanti il computer se no la sentiamo male va cioè sentiamo attratti quindi magari se riesce a stare fermo più vicino possibile al bici sarebbe meglio grazie grazie presidente dell'informazione cercherò di essere più calmo e mettere meno foga in ciò che dico ma a volte lei lo sa mi fa un po' agitare quindi mi viene spontaneo anche muovermi un po' al di là della battuta questa interpellanza appena oggetto Villa Pollina laboratorio di didattica ambientale premetto che non è certo un'interpellanza né provocatoria e neppure ostile verso l'amministrazione è solo cercare di capire se la cosa può essere in quali termini diciamo recuperabile visto l'importanza che ha per la montagna e per il turismo di quella zona allora in località Pracchia ovviamente nel comune di Pistoia c'è un edificio interamente di proprietà comunale denominato appunto Villa Collina dove un po' di tempo fa qualche anno fa si svolgeva con regolarità un'attività di vacanza per i bambini i ragazzi i giovani un'attività dedicata al soggiorno integrato con la formazione all'educazione ambientale quindi anche una cosa diciamo importante soprattutto per i giovani tanto è che il laboratorio di didattica ambientale prendeva il nome di fabbrica del verde la gestione era stata affidata all'epoca alla cooperativa itinerari tale struttura aveva un'operatività per tutti i 12 mesi dell'anno con una capienza di oltre 20 posti letto quindi capite che insomma era una struttura anche di un certo tipo di una certa dimensione nei fatti intorno alla struttura ruotava un micromondo ben strutturato ed anche efficiente che portava nel corso dei 12 mesi alla promozione di svariate iniziative cui i campi solari sui giorni settimanali nel periodo estivo dove vi era anche la possibilità di poter prendere il treno quindi una bellissima cosa devo dire dalla stazione di Pistoia per salire su fine a Pracchia e poter sfruttare l'intera giornata formativa sulla didattica naturalistica visto anche il magnifico posto in cui si trova Pracchia i campi i campi residenziali organizzati erano frequentati non solo da ragazzi del comune di Pistoia e della provincia di Pistoia ma anche da un gran numero di ragazzi che prevenivano da comuni limitrofi ma anche da altre regioni tali ragazzi che arrivavano un po' più da lontano erano praticamente sempre accompagnati almeno dalla figura dei genitori che frequentemente restavano in loco oppure nelle vicinanze di Pracchia per almeno il fine settimana per il weekend in cui accompagnavano i ragazzi contribuendo così ad alimentare un turismo qualificato devo dire qualificato nel nostro compensorio comunale montano attualmente il bando e la convenzione risultano essere scaduti sembra anche che più volte sia stato chiesto da chi gestiva in precedenza e anche sembra da altri un rinnovo quindi io chiedo domando al sindaco e all'assessore competenze la motivazione del perché tale valida iniziativa sia stata fatta naufragare e al contrario non adeguatamente e perché al contrario non adeguatamente sostenuta e incintivata anche in virtù dei risultati che nel tempo aveva prodotto e consolidato magari affidando anche ad altro soggetto la gestione nel caso in cui chi era stato affidato non avesse avuto più i requisiti necessari per poterlo condurre se si ipotizza e se esiste una volontà dopo anche eventuali revisioni di carattere migliorativo di procedere a un nuovo bando e convenzione e se sì eventualmente anche con quale tempistica perché più la tempistica è lunga più tempo si lascia correre da quando esisteva questa promozione a quando si riattiva e più è difficile riportare una presenza elevata come quella che era in precedenza grazie Presidente chiedo scusa chiedo scusa Presidente volevo segnalarle per rispetto e del collega Goli e magari dei cittadini che seguono e che hanno magari anche piacere di vedere il collega quando parla che nella diretta Facebook l'immagine di Goli non si vede c'è un'immagine fissa con due iniziali ma non si vede probabilmente potrebbe essere un problema di collegamento perché io lo vedo il consigliere io la telecamera l'ho attaccata anch'io lo vedo Presidente nell'immagine nostra nel riquadro nostro ma questa cosa che dice Baglione mi è stata segnalata anche a me più volte va bene allora segnalo al cedere comunque penso che non ho sentito ma non so se riuscirà il tipo di problema in ogni caso siamo correttamente avevo segnalato questa cosa io Presidente già più di una volta bene grazie verifichiamo la parola all'assessore Savella per la risposta sì grazie Presidente buonasera buonasera a tutti sindaco colleghi assessori e consiglieri che ritorno dopo tanto tempo in aula anche in forma mista ringrazio il consigliere Gori per la interpellanza così mi dà modo di chiarire e fare luce sullo stato di fatto di Villa La Collina che probabilmente il consigliere non ha seguito gli ultimi sviluppi Villa La Collina è un ambiente un fabbricato a Pracchia al di là della ferrovia libero su quattro lati con un giardino circostante dove all'interno della struttura stessa ci sono anche gli spogliatori del campo sportivo di calcio di Pracchia con un proprio ingresso indipendente ha avuto negli anni una gestione appunto dalla cooperativa Itinerari una gestione scaduta e per la quale si trattava tutta una serie di argomenti che sono stati elencati anche dal consigliere questa gestione però ha avuto una una richiesta invece dopo che è stata scaduta nel 17 giugno del 2020 quindi un'istanza ricomodato da parte della Proloco di Pracchia la quale ha chiesto esplicitamente di poter gestire questo fabbricato con una serie di argomentazioni legate al più ampio progetto con il quale si sta lavorando da diversi anni che si chiama Pracchia Porta della Montagna questo progetto prevede un'interazione da parte dell'associazione nel territorio come vedete anche quest'anno ci sono sette treni storici di cui uno anche domenica scorsa che proprio con fermata a Pracchia in questo progetto ci sono varie opportunità e varie disponibilità il 15 luglio del 2020 con la libera di giunta e seguendo l'articolo 29 naturalmente il vigente regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare è stato dato un indirizzo per avviare gli atti amministrativi per gestione alla prologo di Pracchia che si sono conclusi nella primavera del 2021 con la firma appunto di questo comodato gratuito non scordiamoci che naturalmente per la gestione dell'accoglienza postiletto siamo entrati proprio in un momento in cui il periodo della pandemia e del covid non permetteva ovviamente certi tipi di spostamenti per tutto quello che erano le gestioni anche precedenti ma nel progetto naturalmente la prologo di Pracchia si parla di accoglienze e tradizioni certo attraverso l'attività tesa a ricoprire e diffondere il patrimonio tradizionale e culturale del territorio la valorizzazione dello spazio urbano la natura e l'ambiente i sentieri in cammini e l'innovazione anche nel campo della promozione attiva attraverso canali web e social quindi diciamo tutto un progetto molto ampio che ha lo scopo di inserire Villa alla Collina nell'ambito del progetto Porta della Montagna attraverso il suo utilizzo e valorizzazione per migliorare le condizioni di accoglienza e la recettività per diversi gruppi o singoli che sono riorganizzati la capienza attuale non è 20 ma 27 postiletto e quindi su questo devo dire che in presidenza molti gruppi ma non solo del comune di Pistoria o della regione ma anche tutti gli anni un gruppo di ragazzi dellorussi sono stati accolti a Villa la Collina questo potrà essere sicuramente portato avanti in un progetto appunto complessivo siamo contenti di aver finalizzato invece la gestione alla bloca di Pracchia che è una bloca del territorio che si potrà anche fare carico di interloquille con i gestori che sono persone molto in gamba molto bravi per anche proseguire insieme in una forma di collaborazione alcune attività che venivano promosse in passato e quindi questo è un primo passo appunto di questo progetto più importante che vedrà ve lo anticipo un attimo tra pochi giorni anche a conclusione di una lunga trattativa che anche personalmente ho portato avanti insieme al Sindaco e poi all'Unione dei Comuni anche un progetto che riguarderà anche la stazione l'ex FAP proprio la stazione di Pracchia quindi su questo siamo ben lieti di dare un massimo contributo e la massima attenzione a questa parte della montagna perché crediamo molto che il progetto Pracchia Portella Montagna possa avere tutti insieme ognuno con la prima parte un grande sviluppo da qui ai prossimi decenni grazie bene grazie assessore la parola al consigliere Gori per le repliche sì grazie presidente sarò breve ringrazio l'assessore Sabella e le sue risposte ripeto non era certo la mia interpellanza per fare polemica ma per avere risposte e un po' di risposte l'assessore Sabella le ha date lei assessore poi diceva che ne ho subito ultimamente le dico anche che se lei guarda ultimamente non è proprio ultimamente diciamo che ho presentato questa interpellanza ma è piuttosto datata spero che tale innovazione che lei ci diceva e ci ha rappresentato sia ovviamente migliorativa che porti un beneficio e sia bene tra l'altro dito ciò che ho detto in precedenza il mio unico scopo dell'interpellanza era quella in qualche modo di cercare di portare ancora i bambini ragazzi e parenti a soggiornare sulla nostra montagna spero che con questa innovazione arrivino ancora più persone a visitare il nostro stupendo comprensorio montano mi spiace un po' le devo dire assessore che questa cosa che lei così bene ci ha descritto in qualche modo non sia partita in contemporanea sarebbe stato bello che la gestione precedente finisse e ci fosse già stato un progetto per continuare senza lasciare un buco di qualche anno come purtroppo è avvenuto grazie bene grazie allora passiamo all'interpellanza al punto 3 allora il consigliere Pagliai aveva qualche problema chiedo se di collegamento chiedo se l'ha risolto ci sente consigliere Pagliai bene forse non la vediamo ma penso abbia problemi di collegamento oggi risolto proviamo risolto sì bene ok allora passiamo all'interpellanza al punto 3 dell'ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Pagliai del gruppo Forza Italia Centristi per l'Europa relativa al rifacimento della diga del bacino di Gello prego consigliere Pagliai credo di avere pochi minuti mi ci vorrebbe una giornata intera sette minuti grazie mi ci vorrebbe una giornata intera dunque nell'ottobre del 1990 ero ossessore ai lavori pubblici da luglio venne informato incidentalmente che la diga di Gello non sarebbe stata illegibile per malagestione nei due anni precedenti avevano creato un disastro vero? benissimo a quel punto mi dati da fare perché si potesse presto ripristinarla tutte le attività delle giunte del consiglio delle iniziative portarono ad una grada che vide un vincitore per una spesa che era di una certa cifra molto bassa rispetto a quello che poi si è significato ma per farla breve da tutto questo nacque una polemica e la trasmissione degli atti di questa polemica alla procura della Repubblica oddio fu creata anche una commissione di indagine speciale che indagasse sul mio operato credo che sia stata l'unica commissione del mondo non capitò neanche Giovanna d'Arco nella quale non fosse stato ascoltato e chiamato per dare le spiegazioni il presunto imputato gli atti andarono alla procura della Repubblica io rimasi indagato per quattro anni e poi alla fine di tutto questo percorso tante udienze intercettazioni mamma mia mamma mia il pubblico ministero Costantini nell'inizio della sua replica finale disse prima di tutto dobbiamo stromettere un po' lo pagliate a questa vicenda perché dagli atti processuali è risultato vittima di una manovra politica vabbè pazienza ma il fatto drammatico è che dal 1990 sono passati 31 anni noi a Pistoia bene o male grazie all'ingegner Papini ma anche agli amministratori spesso del partito comunista italiano i caligani palanzi in particolare e all'ingegner Papini avevamo un servizio idrico che si basava su acque sorgive erano le acque del vincio di Brandeglio erano le acque poi dell'alimentro oppure successivamente terreno lì fu una vicenda e lì bene da quel momento la diga di cielo non fu più usata nella sua potenzialità che del resto era anche limitata circa 800.000 metri cubi ma progetti qua sopra progetti sotto quante volte negli anni ci è stato detto che stavano per iniziare i lavori di recupero ora per fortuna noi beviamo dell'acqua pura l'acqua che ci viene da Firenze è quella di Bilancino è quella dell'Arno il pubone questo esempio di gestione del problema idrico a Pistoia negli ultimi trent'anni grida vendetta chiedo quindi come stanno le cose a che punto è l'inizio dei lavori per lo meno in trent'anni per lo meno venti volte ho visto che arrivavano cinque milioni tre milioni otto milioni sei milioni presto rifaremo a che punto è dopo trent'anni è una cosa veramente vergognosa è uno scandalo è una responsabilità politica amministrativa che riguarda trent'anni di cattiva amministrazione vorrei chiarimenti concluso consigliere concluso ah ok non avevo capito bene grazie allora passo la parola all'assessore Bartolomei per la risposta sì grazie spero che si senta bene anche se non c'ho audio molto bene però non si vede sì non c'ho il video perché proprio per evitare che si senta peggio comunque si sente no? molto bene benissimo allora ringrazio il consigliere Pagliai per questa interpellanza che mi permette di fare il punto su una situazione di cui molti consiglieri comunali comunali del mandato attuale sono probabilmente all'oscuro ha fatto bene il consigliere Pagliai a dare le informazioni riepilogative di questa annosissima vicenda anch'io aggiungerò qualche ulteriore dettaglio e poi cercherò di chiarire il punto a cui siamo che a mio parere non è ancora un punto di svolta positivo per diciamo le ultime vicende che sono accadute a Roma dove il progetto definitivo è approdato recentemente il progetto definitivo per il completo risanamento e la rimessa in esercizio del bacino Allora occorre innanzitutto chiarire che l'impianto di ritenuta idrica in questione denominato di Galicello è stato progettato negli anni 60 per l'accumulo e la modulazione ad uso idropotabile delle portate adotte con una condotta proveniente da una presa dal torrente Vincio di Brandeglio che ha un bacino imbrifero abbastanza ampio di circa 13 km quadrati e in subordine anche dalle portate direttamente affluenti da un piccolo corso d'acqua sbarrato che è denominato Fosso dei Fontanacci che invece ha un modesto bacino imbrifero di circa 0,15 km quadrati lo sbarramento di ritenuta è classificato come diga in terra omogenea di altezza pari a 31,9 metri ai sensi della legge 584-94 e con un volume di invaso complessivo pari a circa 850.000 metri cubi recentemente rivalutati dal gestore in 755.000 per via dei riempimenti normali anche che nel corso degli anni sono avvenuti lo stesso impianto è effettivamente fuori esercizio da quasi 30 anni a parte dei piccoli e limitati invasi stagionali a seguito di un fenomeno di instabilità generalizzato del fianco di Monte della Diga di materiali sciolti occorso nell'anno 1990 durante una fase di svaso della Diga pertanto qualsiasi intervento di ripristino non potrà avere un carattere puntuale quanto piuttosto dovrà essere esteso e complessivo a tutto l'ambito territoriale interessato in ogni caso nel 1993 dopo il dissesto del 1990 venne costruito un banchinamento per stabilizzare provvisoriamente il parametro di Monte della Diga credo sia l'intervento che ricordava il consigliere Pagliai nella sua presentazione dell'interpellanza questo piccolo intervento in realtà denominato negli atti Tura per chi conosce la lingua italiana sa che una Tura è un piccolo intervento e serve per mettere all'asciutto delle limitate parti quindi già questo nome che è stato scelto fa capire che non si trattava di un intervento complessivo ma piuttosto un intervento abbastanza puntuale una Tura al piede di Monte del rilevato con sommità posta a quota 138 metri sul livello del male ottenuta per il rimodellamento del materiale accumulato al piede del movimento franoso occorso dopo questo intervento il fenomeno franoso che ha interessato il corpo di Diga si è praticamente esaurito seppure in assenza di significativi invasi successivi in assenza di iniziative concrete per il suo recupero con atto di ricognizione protocollo 89 del 2013 la Diga è stata inserita ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 201 del 2011 nell'elenco delle opere necessitanti di intervento per il miglioramento della sicurezza strutturale di idraulica in attesa della realizzazione di tali interventi per la Diga è stato confermato l'assoggettamento a limitazione di invaso la disposizione vigente è l'atto numero 977 del 29 giugno 2012 che limita l'invaso sotto i 100.000 metri cubi al fine del recupero funzionale dello sbarramento dopo un lungo articolato dito progettuale comprendente in presenza anche la sinergica realizzazione delle casse di espansione sul torrente ombrone pistoese il famoso progetto Lager Primavera è stato predisposto dal gestore ossia Publiacqua soggetto attuatore il progetto relativo al solo recupero parziale della Diga finanziato in parte tramite il Fondo Sviluppo di Coesione 2014-2020 per un importo di 5 milioni e il restante coperto altri 6 milioni dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare è stata infatti esclusa la realizzazione della ricordata e non distante Cassa di Espansione del Lager Primavera oggetto di straccio per motivazioni connesse alle complessità dei procedimenti ambientali paesaggistici e di quelli relativi agli espropri in buona sostanza il progetto era unico rifacimento della Diga più creazione degli invasi ai laghi primavera ma essendo la seconda parte del progetto venuta meno anche la prima parte in pratica era venuta meno e si è dovuto praticamente riniziare da capo con un nuovo accordo di programma il progetto definitivo interventi di adeguamento della Diga di Giudea e Gello redatto da Publiacqua è datato 9-10-2020 cioè il nuovo progetto quello da cui abbiamo reiniziato è stato oggetto di esame tecnico e successivamente con noto protocollo numero 2327 del 3 febbraio 2021 corredata dalla relativa relazione istruttoria è stato trasmesso alla direzione generale del consiglio superiore dei lavori pubblici per esame e parere ai sensi dell'articolo 5 di PR 1363 del 59 il consiglio superiore dei lavori pubblici nella dunanza abbastanza recente del 23 giugno 2021 si è espresso rilevando che il progetto definitivo dovrà essere ulteriormente rivisto e modificato e completato nell'odierna fase progettuale e comunque prima dell'esperimento delle procedure di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle raccomandazioni osservazioni e prescrizioni in cui di cui ha il considerato che precedono e qui ci sarebbe allegato poi il consigliere parliare se interessa glielo manderò il diciamo verbale di questa riunione in sostanza nella riunione è stato rinviato ad una successiva riunione da tenersi entro la fine del 2022 una nuova revisione del progetto definitivo e in questa nuova definizione del progetto definitivo si dovranno tenere di conto di tutte le osservazioni che l'ufficio consiglio superiore dei lavori pubblici ha diciamo messo nero su bianco nella donanza del 23 06 2021 quindi in buona sostanza per rispondere alla domanda secca del consigliere pagliaia a che punto siamo in sostanza siamo al punto che entro la fine del 2022 dovremo ripresentare un nuovo progetto che tenga di conto delle osservazioni abbastanza puntuali che ha fatto l'ufficio di Roma e in questo nuovo progetto speriamo di riuscire a avere finalmente l'approvazione perché i fondi per la realizzazione della nuova diga in realtà giacciono sono gli undici milioni che citavo prima giacciono nelle casse del comune di Pistoia già da qualche anno inutilizzati ed inutilizzabili voglio anche sottolineare fino a quando appunto il progetto definitivo non ha avuto il via libera complessivo di tutti gli enti che si devono esprimere e in particolar modo visto che si tratta di finanziamenti ministeriali del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ho già citato credo di aver ricostruito in maniera abbastanza puntuale la vicenda e avere anche risposto purtroppo dicendo che i tempi per la realizzazione della messa in ripristino della diga di Giello non sono così brevi come si poteva sperare grazie grazie la parola al Consigliere Pagliai per le repliche devo correggere Consigliere non la sentiamo riprovi nel 1993 non era assolutamente quella a quale mi riferivo io la verità è che nel 1991 era stato approvato e appaltato è in fase di consegna di dichiarazione del vincitore un progetto che costava 800 milioni di euro secondo voi insomma perché 11 milioni di euro ora quanti milioni di lire di miliardi di lire sarebbero ecco per far cosa in cui gli 800 milioni nel 1991 si doveva procedere al rifacimento e anche all'innalzamento della diga in terra che era stata derogata che cosa da una vergognosa gestione negli Attici scritto cioè in realtà che era stata messa a gestirla era un incompetente assolutamente che ha venuto in meno le conoscenze storiche di questa faccenda la gestione era allucinante è sfuggito all'assessore Bartolomei il dire che oltre al vincio di Brandeglio e al fosco dei Pontacci come diceva là dentro arrivavano anche le condutture di adduzione delle acque captate dall'alimentare dall'alimentare era una miscela di acque proprio uno dei motivi del sedimento della diga in terra è dovuto proprio al modo come era stato attuato anche questo questo come di me una cosa grave era che in vista dell'realizzazione del bacino del Tazzera Pincio di Montagnano che non è stato mai realizzato perché lì ci sarebbe a scrivere un libro però nel frattempo era stato raddoppiato l'impianto di potabilizzazione in modo che invece di addurre di prendere 80 litri al secondo dal dal bacino di Cello con doppio potabilizzatore se ne prendevano il doppio il che determinò un veloce svuotamento con un tempo di siccità e aggravò quindi capite bene se io da un contenitore di terra levo l'acqua velocemente se avviene il caldo e il sole le crettature le creppature collegate con questo maldestra maldestra adduzione dell'acqua la tragedia tutta italiana è quello che allora sarebbe costato 800 milioni di lire costerà 11 milioni di euro dopo 35 anni una vicenda tutta italiana della quale io sono stato protagonista e vittima di una maniogra politica che Dio li perdoni bene grazie allora proseguiamo con l'interpellanza al punto 4 dell'ordine del giorno sempre presentato dal consigliere Pagliai del gruppo forzitario centristi per l'Europa relativa a manutenzione stradale passo la parola al consigliere Pagliai grazie consigliere c'è sempre consigliere Pagliai presidente mentre il consigliere Pagliai probabilmente si era andato a fare un bisognino le dico una cosa di servizio la dottoressa Carla Breschi non riesce più a essere collegata né in audio né in video perché sembrava dei problemi di linea ok non è escluso che sia il tempo pronto vento forte forse un avvicinamento intemporale comunque verifichiamo con il CED grazie e consigliere Pagliai ci sente ora si sono sopposto posso parlare qual è il tema al punto 4 relativa a manutenzione stradale prego non vi è dubbio che questi 4 anni sono stati anni positivi eccezionali possiamo dire che in 4 anni sono stati realizzati lavori complessivi per circa 50 milioni di euro che se si raffrontano ai 4 anni corrispondenti vale a dire 2016 2015 2014 e 2013 del precedente mandato hanno un rapporto 19 milioni investiti allora 50 milioni investiti oggi investiti non previsti nel piano dell'investimento con grandi risultati nell'edilizia scolastica con grandi risultati negli impianti sportivi nei giardini negli immobili del patrimonio comunale altrettanto oimè non si può dire per uno dei problemi che era gravissimo e che rimane molto grave quello della manutenzione stradale sto benissimo sono a conoscenza benissimo di quanto di quanto sia carente il personale ai cantieri ho dato una nota ad alcuni consiglieri nei giorni scorsi quando nel 1982 gli addetti operari al cantiere stradale erano 42 e oggi sono 4 nella testa so benissimo che se si abbandona la manutenzione ordinaria per un ventennio poi i 736 chilometri sono di più di strade comunali hanno l'esito che hanno però questa interpellanza che non ho sotto mano ma a mente ricordo di aver chiesto quante strade sono state asfaltate nel 2017 nel 2018 quali strade 18 19 20 21 fino a ora quali strade senza tanti numeri riferimenti progetti elenco delle strade con la cifra accanto e magari rapportare anche con quello che era stato fatto nel quadriennio prima del 2017 e soprattutto ora siamo alla fine di settembre le asfaltature si fanno al massimo fino a ottobre e poi prima di giugno di norma è impossibile riprendere questo lavoro noi abbiamo strade di grande importanza che avrebbero un bisogno estremo di interventi la via Fiorentina la via Guicciardini la via Delmanzia la via Modenese la via Leadua ma anche tante strade intorno alla città intorno alla città la via Filippo Pacini la via Mameli la via Ciampini il tratto selvaggio a Vergiolessi di Amazzini che è una cosa incredibile e la via Franchini e tante tante altre ecco su questo punto evidentemente non possiamo dire che abbiamo avuto lo stesso passo spedito deciso di cambiamento che abbiamo dimostrato in tutti gli altri settori e questo a me due anche se devo dare atto che sono stati fatti degli sforzi magari magari asfaltando strade estremamente periferiche Dio mio ne avevano bisogno ma sarebbe stato più opportuno assumere i due principi fondamentali asfaltare prima di tutto le strade più malmesse e contemporaneamente più frequentate non ho l'impressione che questo sia avvenuto dubito che si possa rimettare queste differenze però sono a chiedere che mi siano forniti per scritto gli elenchi che annualmente hanno visto le strade comunali con attività di manutenzione ordinaria straordinaria come vi pare con gli importi accanto e cosa si intende fare nel poco tempo disponibile se il buon Dio ce ne darà la fortuna di poter fare asfaltature prima del voto e tutto possiamo dire ce ne sono state delle critiche in passato ridicole come tante altre della minoranza della mariopinta minoranza critiche stesse a dire che ci salvavamo il denaro per poi fare una passerella elettorale abbiamo fatto tutto meno che questo bene grazie consigliere la parola all'assessore Bartolomei per la risposta sì grazie e poi se il consigliere Pagliai si fida nei prossimi giorni anche domani gli manderò per scritto le cose che chiedeva perché voi capite che ora fare un elenco qui oralmente che comunque farò perché è doveroso dare una risposta anche orale diventa un pochino un esercizio ozioso e a tratti anche inutile perché avere un elenco di strade snocciolate una dietro l'altra divise per anni non credo sia poi così utile se non c'è un documento scritto sul quale puoi fare i propri ragionamenti comunque io l'ho preparato glielo farò avere e leggo anche le risultanze di questo nostro studio questa nostra comparazione di dati e questa nostra collazione di dati l'abbiamo rimessi tutti in fila però devo fare una premessa prima di elencare quanto richiesto è bene rigo a dire che la classificazione amministrativa della viabilità esistente risale all'anno 1982 quando è stata approvata con una delibera del consiglio comunale che è la numero 494 appunto dell'82 tale classificazione oltre a risultare in alcuni casi non veritiera e non coerente con l'allora proprietà stradale risulta oggi ampiamente superata dalla giurisprudenza intercorsa dall'82 a oggi che ha definito criteri per la dichiarazione di uso pubblico e la definizione di strada comunale sostanzialmente nuovi e diversi da quelli che venivano adoperati in quella delibera che ho citato pertanto la conseguenza è che i chilometri di strade comunali dichiarati nell'interpellanza dal consigliere Pagliari che sono 737 sono da correggere e in alcuni casi da togliere ci sono alcune strade che non sono più di uso pubblico ma nella stragrande maggioranza dei casi sono da aggiungere ci sono infatti molte strade sulle quali l'uso pubblico è ormai acclarato e per la trasformazione che c'è stato nel territorio in questi 40 anni e quindi oggi devono essere a tutti gli effetti considerate strade di pertinenza del comune di Pistoe fatto quindi questa diciamo premessa doverosa io passo ad elencare le strade che sono state asfaltate nel diciamo mandato Tomasi che poi è l'oggetto della richiesta del consigliere Pagliari lo faccio indicando il ho scelto come parametro il CRE l'emissione del CRE il CRE è il certificato di regolare esecuzione quindi ho preso le date di CRE ho lasciato stare il 2017 perché è l'anno a metà a cavallo e ho cominciato a considerare soltanto i CRE emessi dall'anno 2018 l'elenco inizia così con il CRE del 22 gennaio 2018 che ha visto essere considerati le seguenti strade appena riasfaltate dalla ditta Coedil SRL per un importo complessivo di un milione di euro questo chiaramente è l'importo di approvazione poi nella gara ci sono stati i ribassi ma quelli l'ho lasciati perdere sono Corso Gramsci via Bonellina via Casefagnoni via Croce Acqualungua via Croce di Badia via dei Macelli via dei Pappagalli via del Bastione Mediceo via del Crociale via del Girone via del Poggiale via del Pontaiovi via dell'Edera via dell'Orsigna via della Chiesina via della Repubblica via di Canapale via Goldoni via Magni via Pagliucola via Pavese via Rodari via San Felice e Piteccio via San Pierino Casalvescovo via Sant'Agostino via Vivaldi e San Momè via Villa di Piteggio via Vivaldi via Le Antonelli e via Le Matteotti naturalmente ho citato il nome delle strade in alcuni casi non pochi non è la strada completa ma sono solo dei tratti perché voi capite che ci sono strade anche che sono lunghe chilometri si tratta dei tratti non ho citato i tratti però nel documento che ho preparato per scritto invece ci sono puntualmente anche indicati i tratti passo poi alla data del certificato regolare esecuzione dell'8 agosto 2018 qui questi asfalti sono stati fatti da Endi Asfalti SPA con un progetto complessivo del valore di 200.000 euro via delle Olimpiade via di Bargi via di San Pantaleo via Traversa e via Le Matteotti ancora il CRE del 12-12-2018 ditta Gesal SRL questa volta si tratta non di strade asfaltate ma di strade con pietre e sono via Ripa del Salle via di Ripa della Comunità via Buonfanti via De Rossi via Del Fiore via della Dogana via della Torre via Tomba di Catelina e via 27 Aprile nel invece 2020 i CRE del 2 aprile 2020 riguardano gli asfalti fatti da R Tico Edil SRL insieme a per un importo di progetto complessivo di 700.000 euro sono via Boldini via Boschereccia via Casegeri e Selvapiana via Casella di Santo Mato via De Ciantelli via De Gatti via De Giardini via del Forramoro via del Paradiso di San Pantaleo via della Chiesina via delle Logge via delle Mure Urbane via di Caffaggio via di San Piero e Invincio via di Valdibrana due tratti via Ferrucci via Nerucci invece con il CRE del 14 11 2019 era sfuggito lo cito adesso Consorzio Concos progetti complessivi di 275.000 euro sono state asfaltate via Bolognese via di Spedaletto e basta poi con il CRE 29.6 2020 Cinelli Costruzioni SRL importo progetto 50.000 euro la via di comunicazione che è la via che collega la via di Gabbiano con la via fonda di Gabbiano con il CRE 24.03 2021 quindi si arriva a tempi più recenti la ATI fracca fissi al varo SRL endi asfalti SPA per un importo complessivo di 500.000 euro sempre al netto dei ribasi quindi i soldi spesi sono molti meno via Casa Sandrella via di Ciricea Giuliani via Crespo le Fabbriche via del Pianaccio tre tratti di via dell'Orsigna e via del Pian di Giuliano con il CRE del 18 febbraio 2021 che si riferisce a lavori fatti da ITAL SCAVI SRL per un importo di progetto complessivo di 270.000 euro via Beato Angelico via Borgo Talfano via dei Cipressi via del Bosco di Barile via del Fiume via dell'Ibeccio via del Piloto via delle Parche via di Pulica via di San Biagio in Cascari via di Vignano via della Fonda di Vicofaro via Monfalcone via Parallela Nord via Trenfuni c'è ancora c'è ancora ed è questo non terminato ma è ancora in corso il progetto 18.000 2020 accordo quadro da 900.000 euro complessivi affidato a Bicicchi Felice SRL e ai suoi subappaltatari che è stato realizzato è stato diviso in tre lotti è stato realizzato completamente il primo lotto che riguardava la via Fermi la via Marino Marini la via Salvo d'Acquisto la via di San Biagio e Castelbovani la via di Sbigiano scusate e Castelbovani e la via Vecchia Fiorentina ci sono invece da ancora completare il secondo lotto che è stato realizzato solo in parte ed effettivamente la parte realizzata riguarda via Barzanti via Righi via Ruffini e via Marconi e via Torricelli sostanzialmente l'intero villaggio Lazzi che era da più di 40 anni che non veniva asfaltato e c'è ancora da finire e saranno fatte entro il mese di ottobre le restanti strade del secondo lotto che sono la via dei Baroni la via Gemignani la via Mameli e la via Nazario Sauro e la via San Romano che è la variante che va verso Val di Brana dopo aver fatto la via Vecchia di Val di Brana a carico di Publiacqua il comune fa la via San Romano che è la variante così si completa completamente si completa l'accesso a quella valle esiste ancora da completare il terzo lotto dell'accordo quadro che prevede il rifacimento della via Dalmazia è ancora da diciamo firmare il lavoro ma contieremo di farlo se il tempo ci dà in qualche modo agio di poter lavorare nel mese di novembre ottobre novembre del corrente anno rimangono poi tutta una serie di progetti che sono stati già approvati sono o in gara o addirittura con gare già effettuate e parzialmente anche già attuati che riguardano allora la via della Nona con un risanamento del piazzale di sosta degli autobus intervento già realizzato con anche il contributo fondamentale di Copit poi la via Guicciardini che è stata deliberata un importo di 630 mila euro poi accantonato e rinviato al prossimo anno e nel frattempo sostituito con il rifacimento normale sempre della via Guicciardini anziché risanamento per un valore di 90 mila euro già approvato già finanziato in questo momento in gara e che vorremmo effettuare entro la fine dell'anno durante i mesi di ottobre e novembre ancora la via Fiorentina per un importo di 525 mila euro anche questo progetto è stato accantonato il risanamento e sostituito invece con il solo rifacimento della parte centrale del bottegone già realizzato nei giorni scorsi per un valore di 40 mila euro ditta vando battaglia costruzioni srl sono anche in via di aggiudicazione la via di Chiazzano per un valore di 180 mila euro che conteremmo di fare nella prossima primavera comunque prima delle elezioni amministrative e un nuovo accordo quadro per un valore complessivo di un milione di euro il più grande accordo quadro sulle strade che sia mai stato messo a punto e che intenderemmo spendere se non totalmente almeno in buona parte prima delle prossime elezioni con questo accordo quadro naturalmente voi sapete come funziona non ci sono i nomi delle strade ma ci sono diciamo importi per i vari tipi di lavorazioni che devono essere svolte e poi le strade possono essere scelte anche all'ultimo momento è quindi uno strumento estremamente più flessibile e che si adatta molto meglio alla questione del rifacimento delle strade che voi sapete se passa un anno come succedeva nel passato spesso e come è successo anche nel recente passato devo dire tra il momento in cui si fa il rilievo e si fa la gara e il momento poi che si riesce a fare l'intervento spesso cambiano enormemente le condizioni delle strade c'erano strade che magari un anno fa erano in condizione potevano reggere ancora un po' e che oggi invece sono assolutamente degradate ancora di più delle strade che sembravano più degradate un anno fa e che invece oggi sono allo stesso degrado dell'anno scorso e quindi sono state superate da altre ecco perché l'accordo quadro ci pare uno strumento assolutamente più idoneo per diciamo intervenire bene l'ultima questione l'ultima questione non le cito tutte perché sono moltissime però il consigliere Pagliai e chiaramente anche tutti gli altri consiglieri se gli interessa avranno basta chiederle le strade che abbiamo rilevato e che sono in attesa di essere riasfaltate suddivise in tre categorie diciamo quelle rosse cioè interventi molto urgenti quelle arancioni interventi di media urgenza e quelle gialle dove l'urgenza si può rinviare ancora se in qualche modo possano essere rinviate ancora per un po' sono un elenco di una sessantina di strade il cui costo complessivo qualora le volessimo sistemare tutte quante si aggira intorno ai due milioni e mezzo di euro o qualcosa del genere quindi con l'accordo quadro da un milione entro le prossime elezioni faremo anche una buona parte di queste strade grazie grazie magari visto che ha un documento scritto lo può mettere a disposizione di tutto di tutto il consiglio questo è naturalmente certo bene grazie prego consigliere pagliate le repliche pronto? si sente? prego qui prendo atto di quanto ci dice l'assessore Bartolome devo precisare che quella delibera imprecisa imperfetta dell'elenco delle comunali la conosco bene nel 1982 ero io l'assessore lavoratore pubblico quello che mi sgomentino è pensare che dal 1982 ad oggi sono passati quasi 40 anni e in 40 anni 4 anni di centro-destra e 36 anni di sinistra non ci sia stata l'opportunità il tempo di aggiornare alle norme nuove anche questo elenco mi lascia basito allibito e la riprova anche in questo settore di una gestione della corsa pubblica criticabile da ogni punto di vista non ho altro da aggiungere bene sarei contento di avere questi elenchi scritti ma la mia esigenza va anche oltre sarei anche altrettanto contento se si potessero avere gli elenchi scritti per fare un confronto quello di quello che è venuto invece nel 2016 nel 2015 nel 2014 e nel 2013 anche per confrontare l'attenzione alla manutenzione delle strade in un quadriennio di sinistra e un quadriennio di destra così per far chiarezza come la dovremmo fare prima del voto perché i cittadini sappiano per l'edilizia scolastica per lo sport per i giardini per il patrimonio immobiliare così vedremo chi ha le carte e chi ha la coscienza apposta bene grazie consigliere Pagliaio passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno rete interbibliotecaria provinciale Redop approvazione nuova convenzione anni 2021-2026 per questa proposta di delibera è stata richiesta anche la votazione sull'immediata eseguibilità prima di passare la parola all'assessore semplice devo dare comunicazione del fatto che oggi non possono essere collegati né il dottor Lozzi dirigente del servizio né la dottoressa Rasetti responsabile della biblioteca ma in ogni caso comunque la proposta è stata esaminata insomma è stata esaminata in commissione nella commissione competente e di una modifica nel testo della delibera che mi comunica la dottoressa Rasetti e il dottor Lozzi in particolare si tratta di eliminare il punto 2 del dispositivo di sottoporre il testo all'approvazione del consiglio comunale allo scopo di poterne permettere la sottoscrizione così come concordato fra tutti gli enti aderenti in quanto è superfluo quindi il punto 2 viene cassato passo la parola all'assessore semplice per la presentazione della proposta sì grazie presidente buonasera a tutti e ben trovati in questa nuova modalità mista per lo svolgimento del consiglio comunale io spero che mi sentiate sto parlando nel microfono dell'aula però anche a beneficio di coloro che sono collegati come diciamo come di consueto dal remoso e anche a beneficio dell'eventuale pubblico io sono anche connetta con il mio pc e quindi potete vedere in video dunque il presidente ricordava come questa convenzione della rete red o che è stata in effetti oggetto di una commissione nell'ambito della quale i commissari hanno potuto chiarire anche con la dottoressa Rasetti che ne ha curato l'aggiornamento e la stesura in modo puntuale alcuni passaggi che pure non sono diciamo di particolare differenza rispetto alla convenzione precedentemente vigente quella 2016 2021 la convenzione della rete red op 2021 26 è stata oggetto di approvazione da parte dell'assemblea della rete in data 30 luglio ed è sottoposta da allora all'approvazione dei diversi consigli comunali dei soggetti aderenti nonché alle assemblee degli altri soggetti perché come sapete della rete red non fanno parte soltanto amministrazioni comunali ma fanno parte anche altri soggetti come associazioni ed altri appunto soggetti che hanno futuro a parteciparvi questa convenzione è stata diciamo benedetta approvata anche dalla regione toscana in quanto è considerata in linea con quei dimessori contenuti dell'atto cornice standard che appunto le convenzioni delle reti documentali a livello provinciale devono presentare ogni comune ogni soggetto aderente versa un corrispettivo per la propria partecipazione alla rete mentre l'unico soggetto ad essere sostanzialmente esentato dal versamento a non pagare appunto la quota che per il comune stesso sarebbe fissata in 15.000 euro è proprio il comune di Pistoia in quanto il comune di Pistoia mette a disposizione il lavoro del coordinatore della rete e di altri colleghi del coordinatore della rete che lavorano appunto nell'interesse della red nell'ambito dell'ambito della propria attività ordinaria quindi offrono sostanzialmente un contributo in natura sotto forma di lavoro a quelli che sono gli interessi della rete devo dire che questo lavoro per cui anche ringrazio la dottoressa Arasetti che non è presente per un suo problema personale è stato oggetto di un gruppo di lavoro che si è insediato nel mese di gennaio 2021 in ogni caso come prima accennavo i contenuti della convenzione non sono molto diversi rispetto a quelli precedenti proprio perché il lavoro di aggiornamento complessivo di quello che era il contenuto della convenzione è stato effettuato con la precedente quindi la precedente appunto approvata nel 2016 grazie bene grazie assessore ci sono interventi sì prego consigliere sgueggia grazie presidente mi sentite si 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 a tutti solo un rapido accenno innanzitutto per salutare chi è tornato in presenza perché è sicuramente un motivo diciamo di orgoglio poter tornare per tornare qui personalmente sembra la prima volta quindi è comunque un'emozione anche se purtroppo siamo fuori poi riguardo alla pratica non oggetto sono intervenuto solo per dire che in commissione il lavoro è stato semplice e rapido perché si tratta fondamentalmente di una serie di adeguamenti tecnici che facciamo alla legge regionale circa però una rete che per noi è importante e interessante perché è la rete Redop del quale abbiamo la fortuna di essere diciamo la guida nella nostra provincia e quindi diciamo adeguarla e renderla sempre più al passo diciamo con quelle che sono le normative odierne è importante perché a Pistola esiste da vent'anni da ben prima che fosse obbligatoria in Toscana e perché fa sì che la nostra rete possa continuare a godere di quegli sono finanziamenti regionali che in questi anni abbiamo preso e che dobbiamo continuare a prendere per dare modo a tutta la provincia di godere di un servizio di un servizio fondamentale quindi solo questo ringrazio l'assessore Semplici ma soprattutto anche la direttrice Radetti che hanno scelto la biblioteca per il lavoro che ha tolto grazie Presidente bene grazie ci sono altri interventi posso chi è che chiede di intervenire sì prego sì buonasera grazie ben trovati allora sicuramente questa questa punto all'ordine del giorno quindi questa approvazione di questo nuovo convenzione avrà sicuramente il mio voto favorevole perché è una convenzione che a quanto ho capito essendo appunto stata in commissione avendo ascoltato la relazione della direttrice è appunto se si è trattato di una necessaria e doverosa convenzione appunto per aggiornare il quadro appunto delle relazioni con l'esterno per inserire nuove specifiche richieste che erano state fatte appunto dalla regione riguardo per esempio al funzionamento delle riunioni e poi soprattutto perché si nell'articolo 16 c'è un'armonizzazione appunto con quello che è il sistema bibliotecario regionale e nazionale questo mi sembra cioè una buona novità una buona cosa io credo che la rete redop sia sicuramente un valore aggiunto che noi diamo per appunto connotare la nostra che aiuta come dire a migliorare a connotare la nostra biblioteca come una delle migliori italiane e ovviamente mi corre brevemente l'obbligo di ringraziare con sincero veramente sincero apprezzamento il lavoro svolto dalla direttrice Rasetti che ha sempre creduto non solo nel progetto redop ma soprattutto anche in questo ruolo della nostra biblioteca che non è una semplice biblioteca ma già dal suo predecessore che appunto aveva questa idea innovativa di una biblioteca diversa da quelle di allora siamo negli anni 2000-2005 e una biblioteca appunto che diventasse un valore che avesse un valore sociale infatti la nostra è sicuramente una biblioteca sociale vale a dire una biblioteca nella quale non si fa soltanto lettura di libri ma dove l'utente non si lavora soltanto per l'utente non è quindi un servizio solo per l'utente ma è un servizio che viene attuato con l'utente questa mi sembra una differenza molto molto importante e quindi è sicuramente un un luogo infatti la biblioteca se noi guardiamo appunto tutti i progetti nella quale che vengono fatti appunto grazie appunto alla biblioteca e anche alla rete Redop che è un servizio dove dove sono importanti soprattutto le relazioni e quindi gli utenti per esempio per quanto riguarda la rete Redop per esempio gli utenti sono quasi 96.000 utenti quindi insomma e poi c'è un fatto positivo che ogni volta in questa convenzione per esempio sono aumentati i partner di questa che non solo sono le scuole ma scusate non sono le biblioteche ma sono anche le scuole che aderiscono a questi a questi progetti e a questo a questa rete quindi io credo che sia apprezzabile questo questo lavoro che viene fatto non soltanto per quanto riguarda appunto la rete Redop ma per tutto quello che gira intorno alla nostra biblioteca che è sicuramente un qualcosa di importante a cui dobbiamo tenere che dobbiamo manutendere il più possibile e nel miglior modo possibile ed eventualmente cercare anche di implementare i servizi che offre soprattutto per quanto riguarda per esempio i servizi che riguardano ad esempio l'apertura dell'orario considerando anche ad esempio quegli studenti lavoratori che avrebbero necessità di stazionarci anche in orario più serale quindi io mi auguro che questa giunta se ce la farà o la prossima che verrà che veramente spenda più risorse economiche e soprattutto anche umane per implementare e per rendere la nostra biblioteca ancora più attrattiva e ancora più al servizio dei cittadini grazie e delle cittadine bene grazie consigliera Fotti ci sono altri interventi no da casa da qui in base consigliera Nuti posso? chi è? ah prego consigliere Pagliai ma brevimenti io devo cogliere questa occasione per ricordare come la nostra città a questo riguardo sia veramente meritevole di grande considerazione Pistoia è stata forse la prima città italiana avere una biblioteca pubblica istituita da un cardinale il cardinale Forteguerri che voleva realizzare la scuola della sapienza e poi fu anche la biblioteca Forteguerriano Pistoia ha anche il vantaggio di aver avuto un cardinale del cardinale Fabroni che a Roma in Vaticano ebbe un ruolo importante come diplomatica soprattutto quando smise la sua attività di prelato nella sede romana decise di trasferire a Pistoia tutto il suo patrimonio c'è tutta una storia arrivarono per nave e poi portati con carri tirati da boi per arrivare là ma poi abbiamo anche quella eccezionale eccezionale biblioteca che l'archivio della cattedrale che è una cosa ricchissima anche se negli anni la forte guerriana ha avuto dei danni previsti irreparabili di fuoco rimasti impuniti solo un libro che ce n'erano solo due al mondo quando fu trafugato è rimasto poi tutto nascosto non si è mai sottosto nulla valeva 800 milioni di lire era quel famoso libro di contabilità del Pacioli ma non solo quello ci sono stati dei ladri all'interno dell'albateca ma te che magari sono iniziati in comune poi sono andati in tensione oppure qua l'albo insomma i libri sono spariti sta di fatto che dobbiamo dare anche atto alla volontà politica di chi volle realizzare la nuova biblioteca che è indubbiamente un'eccellenza quindi Piscoia da questo punto di vista ha sicuramente avuto una capacità enorme purtroppo ho notizie frequenti di cittadini che vorrebbero lasciare anche importanti fondi librari non libretti da niente recentemente poi al sindaco lo spiegherò meglio ho saputo ho preso atto con mano direttamente di un fondo importantissimo che era la Pistoia e che si era trasferito per fortuna in una biblioteca comunale della nostra della nostra provincia ma sappiamo che noi non possiamo accogliere nei nostri modesti locali nei nostri modesti locali tutto quello che si ha intenzione di donare ma a volte ci sono delle perle delle raccolte importantissime per settori particolari e specifici che verrebbe la pena di conservare forse da questo punto di vista non siamo ben attrezzati comunque l'eccellenza del sistema bibliotecario di Pistoia è fuori discussione per meriti che vanno dal cardinal Forteguerri al cardinal Fravoli ai sindaci non perché nell'i compresi sindaci prima di lui ma anche alla giunta attuale proseguiamo su questa strada bene grazie prego consigliere Anuti grazie presidente signor sindaco assessori e colleghi consiglieri la revisione della convenzione per la re è sicuramente un atto importante e che va in una linea di continuità altrettanto rilevante perché quando si rinnova una convenzione è chiaro che ci sono degli interventi manutentivi dell'atto stesso degli adeguamenti normativi l'accoglienza di nuove proposte che il tempo rende necessarie ma si tiene fermo l'impianto generale e l'impianto generale è quello che ci restituisce una realtà molto vitale e molto ricca non solo per Tistoia ma per l'intero territorio la rete è sicuramente l'espressione più elevata e che concretizza la volontà che poi l'amministrazione nel 2007 ha realizzato e ha concretizzato con questa biblioteca effettivamente dal 2007 il passo culturale della città di Tistoia ha avuto una significativa accelerata perché una biblioteca così importante e concepita in una maniera così territoriale di apertura come spazio di accoglienza ha veramente dato il senso di una lettura diversa del senso della cultura stessa infatti la biblioteca non è solo un contenitore di libri ma è un punto di riferimento di tante generazioni fasce generazionali dai bambini all'adolescenti e anche coloro che in età più avanzate si appassionano proprio alla ricerca alla lettura dei libri e a richiedere è un modo per tenere il territorio insieme e la rete lo sancisce in una maniera altamente definitiva è stato un investimento importante importantissimo che ha creato anche dei debiti ma credo che quando si fanno dei debiti di questo tipo con questa prospettiva hanno veramente un senso perché la ricaduta di questa realizzazione della biblioteca su tutto il territorio su tutte le generazioni di Pistoia e sulla popolazione della città e della provincia è quantificabile nel numero delle presenze nel numero di rete di relazioni che la stessa riesce a produrre all'interno della popolazione credo che anche che la biblioteca abbia un ruolo importante per costruire tutta la rete culturale ecco perché le richieste di proseguire con maggior orario di avere anche più possibilità di nel doposcena hanno questa valenza perché è un punto un crosuolo da cui dipendono poi tante altre attività e penso a mostre di fotografia mostre di pittori mostre di libri di artisti che a vario titolo li si presentano non disperdiamone nulla di quella biblioteca anzi continuiamo a investirci perché perché può essere ancora di più potenziata e perché quel punto sia veramente una raggera per tutta l'istoria non veniamo meno ai suoi alle sue attività e ai suoi intesi e concentriamo energie perché possa veramente produrre tutto quello che ad oggi è stato fatto con l'aiuto personale altamente qualificato ma anche voglio ricordare di una rete di volontari molto presente molto attiva che costruisce con tanti punti del territorio un rapporto continuo e profitto non era importante avere attanto a quella biblioteca una una sede universitaria anche con il comune presente e che attualmente vediamo ricco di progetti come quello ultimo per lo sviluppo della matematica nelle scuole un progetto finanziato e sostenuto dall'università di Pisa un progetto effettivamente avveniristico e avere quel rapporto che non è dentro essere dentro come è comune dentro all'Unity avrebbe sicuramente creato ancora più legami e rapporti non solo fisicamente vicini ma proprio di cittadinanza e di disseminazione culturale non abbiamo avuto abbiamo perso a Pistoia un ITS Prime ora sento che a Montecatini ne vogliono istituire uno sul sul turismo perché sono punti altamente qualificati di innovazione e soprattutto di possibilità lavorative che a Pistoia a parte alcuni segmenti mancano la biblioteca era lì era vicina anche a quel ITS Prime che è stato perso insieme alla soddisfazione per il rinnovo della rete Redox e della biblioteca rinnovo alla giunta un impegno a mantenere fermi alcuni punti sulla cultura più generale perché non si può fermarci alla biblioteca ma bisogna ampliare tutta la rete con gli altri soggetti del territorio in particolare la fondazione la regione e la biblioteca a quel punto diventa sempre più forte e più consistente grazie ci sono altri interventi non ce ne sono per cui passo la parola all'assessore semplice per le repliche scusate ma si deve raccattare se ho fatto ad accendere un microfono che non è sulla troppa ferma ma io vorrei ringraziare anche la commissione il presidente e il consiglio comunale per diciamo avere espresso queste parole d'apprettamento rispetto al lavoro della rete che effettivamente viene condotto con estrema serietà e di impegno da parte della dottoressa Rasetti in qualità di direttrice della biblioteca e anche da parte di tutto il personale della biblioteca stessa poco fa il quindi credo che e mi fa piacere se questo avverrà ci possa essere comunque un largo consenso sull'approvazione della convenzione che come si diceva ripropone quei direttori contenuti previsti anche dalla convenzione precedente che serve effettivamente per l'acquisizione di contributi da parte della regione poco fa il presidente della commissione mi dava mi dava un ulteriore suggerimento il consigliere rispetto alla possibilità di incrementare l'apporto degli ebook nell'ambito dell'attività della rete ecco questo credo che sia effettivamente uno stimolo importante che avrò cura di ripresentare alla dottoressa Rasetti perché lo faccia proprio e lo sottoponga all'assemblea della rete in ogni caso ognuno di noi credo abbia avuto modo anche di servirti della rete stessa per il riferimento di testi o di documenti e ne abbia appunto apprezzare l'efficienza e assolutamente il beneficio che questa dà appunto a chiunque abbia semplicemente un interesse culturale ma anche per coloro che conlucono ricerca scientifica o fanno necessità di approfondire temi che magari non sono immediatamente referibili presso la propria biblioteca di riferimento grazie bene grazie ci sono dichiarazioni di voto sì presidente prego grazie non sono intervenuto in discussione generale perché credo sarò piuttosto breve e quindi non volevo rubare tempo anche il voto del movimento sarà a favore di questa nuova implementata impostazione per quanto riguarda il tema di cui stiamo parlando perché come abbiamo dimostrato anche in altre occasioni sono due elementi che determinano questo voto uno il fatto di approcciare le tematiche sempre in maniera il più oggettiva possibile e nell'interesse generale e pubblico senza assumere posizioni pregiudiziali o di contrapposizione fine a se stessa per cui quando e laddove si ritiene che un provvedimento sia utile alla collettività lo appoggiamo senza se e senza ma l'altro elemento è che proprio perché particolarmente sensibili al tema della cultura in generale che poi è chiaro ha una relazione strettissima con quella di cui stiamo parlando abbiamo anche proposto avanzato delle proposte circa appunto una implementazione dei servizi offerti dalla biblioteca da quella che è stata credo onestamente riconosciuta come un'opera importante per la per la città di Pistoia e che passatevi l'espressione quando qualcuno ha parlato anche di debito ecco questo è quello che considero in maniera prevalente un debito buono come qualcuno ultimamente distingue con quello cattivo perché in un periodo di tensioni sociali anche sinceramente di di un livello piuttosto basso probabilmente anche inciso dalla situazione della pandemia che ha esasperato probabilmente l'animo di tutti noi però è evidente che abbiamo bisogno di ritrovarci e di convergere su pensieri molto diversi da quelli che ultimamente si sono sviluppati e che portano generalmente a contrapposizione a violenze ad aggressioni che questi siano prima verbali e poi fisiche è assolutamente drammaticamente evidente e il voto sarà quindi favorevole quello del del movimento ma allo stesso tempo sempre con la stessa obiettività e fuori da qualsiasi polemica appunto vogliamo ricordare che alcune proposte che andavano nella direzione che chiedevano appunto un'implementazione e anche un impegno più sostanzioso dell'amministrazione nel sostenere questo ambito sono state respinte e devo dire anche in maniera poco comprensibile e non sempre legato a questioni di disponibilità di fondi che ricordo ancora una volta questa amministrazione avrebbe la possibilità di trovare se solo decidesse di assumere magari e portare avanti degli impegni che ha formalmente anche acquisito quindi chiudo dicendo e confermando che il voto in un momento è favorevole grazie bene grazie ci sono altre dichiarazioni di voto allora non ce ne sono per cui nomino scrutatori consiglieri da remoto la consigliera Manchia in presenza consiglieri Grasso e Misiano sì ce l'ho io forse non sono nell'ordine che chiamo al segretario ma ci sono tutti bene grazie allora stiamo alla votazione quindi del punto 5 dell'ordine del giorno rete interbibliotecaria provinciale redop approvazione nuova convenzione anni 2021-2026 votiamo sia la proposta del Libra che l'immediata eseguibilità ovviamente essendo modalità mista l'appello cioè la votazione sarà per appello nominale per cui passa la parola al segretario prego chiedo scusa sì buonasera di nuovo sono le 17 e 16 Presidente Gelli sì il mio voto è favorevole sia alla proposta del Libra che all'immediata eseguibilità Sindaco Tomasi sì il mio voto è favorevole alla del Libra e alla proposta di immediata eseguibilità Consigliere Pelagalli Francesco favorevole alla del Libra e alla sua immediata eseguibilità Consigliere Gallegani Lorenzo favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità Consigliere Sveglia Gabriele favorevole alla proposta di delibera e all'immediata eseguibilità Consigliere H.P. Francesco favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità Consigliere Assicari Jessica favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Consigliere Cercuccio Emanuele. Sì, buonasera, sono favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Consigliere Vannelli Daniele. Sì, sono favorevole al provvedimento e alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Mi scusi, segretario. Consigliere Anisiana Michele. Presente, favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Consigliere Arasio Fabio. Favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. Consigliere Manichelli Benedetta. Sì, sono favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. La consigliere Manichelli non la vedo, è in presenza? Sì, mi vede? Sì, in presenza la vedo io. Perfetto, consigliere Boiola Jacopo. Favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Consigliere Pagliai Giampaolo. Favorevole alla delibera e alla proposta di immediata eseguibilità. Sì, consigliere Pagliai, si inquadri però perché non la vedo. Guarderò di inquadrarmi ma sono inquadrato io. Pagliai a alzare la telecamera e girarla verso di lei perché si inquadra qualcosa che non si vede. Riesce a spostare il telefono. Ora l'ha abbassato troppo, se l'ha alza un pochino e si mette. Non si vede? No, non si vede un tavolo ma non si vede altro. Non si vede lei. E probabilmente inquadrà l'incontrario. La richiamo fra un pochino la consigliere Pagliai. Grazie. Guardo di aggiustare. Consigliere Massini Barbara. Sì, buonasera segretario. Io sono favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. Bene. Consigliere Mantia Patrizia. Sì, favorevole alla delibera e all'immediata eseguibilità. Consigliere Marzio Francesco. Favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. Perfetto. Consigliere Cervini Cinzia. Sì, anch'io sono favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Bene. Consigliere Belli, Alessandro. Favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. Bene. Consigliere Calzolari Paola. Sì, favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Consigliere Vespignani Jacopo. Bene. Pronto. Consigliere Vespignani Jacopo. Consigliere Vespignani non c'è. Chi era che parlava? Consigliere Pagliai? Belli. Era Belli. Belli, l'ho sentito. Ha votato favorevole alla delibera e all'immediata eseguibilità. Per me va bene. Consigliere Vespignani non c'è. Consigliere Maglione. Sì, segretario, favorevole alla proposta di delibera e alla sua immediata eseguibilità. Grazie. Bene. Consigliere Trippi, Walter. Sono presente. Il mio voto è favorevole sia alla proposta di delibera che all'immediata eseguibilità. Bene. Consigliere Tucci, Mario. Ci sono e sono favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. Bene, perfetto. Consigliere Alberti, Alvaro. Sì, Alberti, Alvaro è presente. Il mio voto è favorevole alla delibera e alla immediata eseguibilità. Consigliere Accotti, Antonina. Favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. Consigliere Grasso e Giovan Battista. Sì, sono presente e sono favorevole alla proposta di delibera e all'immediata eseguibilità. Consigliere Bartoli, Roberto. Consigliere Bartoli, Roberto. Consigliere Bartoli, non c'è. Consigliere Cenerini, Alessandro. Consigliere Cenerini, Alessandro. Consigliere Cenerini, non c'è. Consigliere Abreschi, Carla. Consigliere Abreschi, Carla. Consigliere Abreschi, non c'è. Consigliere Gori, Gabriele. Consigliere Gori, Gabriele. Consigliere Gori, non c'è. Consigliere Anuti, Tina. Sì, buonasera. Sono presente e sono favorevole alla delibera e alla sua immediata eseguibilità. Bene. Consigliere Bonacchi, Federica. Sì, buonasera. Sono presente e sono favorevole alla proposta di delibera e all'immediata eseguibilità. Provo a chiamare di nuovo il consigliere Pagliai. Consigliere Pagliai è presente? Consigliere Pagliai mi sa che si sta collegando. Aspetto altri cinque secondi. Consigliere Pagliai è presente. Vedo lampeggiare i suoi quadratini, ma non la sento. E neanche la vedo. Bene, il consigliere Pagliai purtroppo non riesco a metterlo presente. Allora, mi risultano 27 presenti, 27 volte favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, uguale votazione sull'immediata eseguibilità. Consigliere Pisiano. Confermo, segretario. Consigliere Manchia. Confermo. Consigliere Grassi. Sì, confermo, segretario. Dottore Vangelis. Confermo. Presidente. Bene, grazie. Allora, la proposta di delibera al punto 5 dell'ordine del giorno è approvata ed è approvata anche la richiesta di immediata eseguibilità. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Abbiamo una mozione, mozione presentata da consiglieri comunali Tripi, Alberti Cotti, Tucci del gruppo PD, relativa a aggiornamento, lavoro, consorzio bonifica e nuova sede. Passo la parola per la presentazione della mozione al consigliere Tripi. Sì. Gruppo Tipi, prego. Grazie, Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi e colleghe. La mozione in questione che è stata oggetto di un utile, credo, approfondimento nella commissione competente è la ripresa, se così si può dire, di una mozione precedente che aveva permesso e per questo era stata giudicata, credo, in maniera piuttosto trasversale, utile al lavoro dei commissari e del consiglio tutto che aveva appunto come oggetto un approfondimento attraverso una serie di richieste che quella mozione aveva rispetto ai lavori sul nostro territorio del consorzio di bonifica e quindi con un punto della situazione, dei vari contesti più e meno complicati, degli investimenti in corso, degli obiettivi di medio e di lungo termine oltre che a quelli ovviamente più quotidiani ed immediati. Quella mozione permise a suo tempo di appunto conoscere come commissari e come consiglieri in maniera più approfondita e più complessiva il lavoro del consorzio di bonifica in collaborazione con gli altri enti coinvolti, ovviamente, tra cui evidentemente il Comune di Pistoia per tutto ciò che riguarda l'assetto idrogeologico del nostro territorio e la sicurezza idraulica del nostro territorio. Ovviamente il punto di partenza è che come spesso accade, ed è anche normale che sia così, mentre la giunta che partecipa ovviamente ai tavoli in cui i vari passaggi avvengono, in cui le varie decisioni vengono prese, ha ovviamente con costanza l'accesso a tutti quelli che sono queste informazioni per i consiglieri e le consigliere ovviamente è più complicato avere quadri di questo tipo e quindi avere occasioni in cui, attraverso ovviamente una serie di richieste, attraverso lo strumento della mozione e le sue caratteristiche però, in cui si riesce ad avere un'interlocuzione diretta con i soggetti in campo su un tema che impatta così tanto sul nostro territorio, penso che sia un elemento utile. In questa mozione in particolare poi si è aggiunto, ed è stato un po' l'elemento che ha portato il gruppo del Partito Democratico a proporne una nuova mozione aggiornata e appunto che comprendesse anche il nuovo punto che sto per citare. Nel frattempo c'è stata una discussione ormai vari mesi fa perché questa mozione ha, a un'età già piuttosto avanzata, rispetto alla riorganizzazione dell'operatività del consorzio e nello specifico alla riorganizzazione delle sedi e quindi a una discussione che è avvenuta nelle cronache e diciamo nello scambio politico-istituzionale, come spesso avviene rispetto alla unificazione delle sedi delle sedi amministrativa, diciamo così, del consorzio a Firenze, necessità alla quale il Comune di Pistoia si era nei tavoli, insomma nelle sedi dovute, dimostrato contrario e quindi era l'occasione necessariamente visto che diciamo avvenimenti di questo tipo non passano direttamente dal Consiglio Comunale per però avere contezza e effettiva conoscenza di questo passaggio che ovviamente ha a che fare con l'operatività di una realtà importante come il consorzio sul nostro territorio. Quindi questa mozione aveva come obiettivo non solo il favorire una interlocuzione su tutti i temi posti a favore, in favore di tutto il Consiglio Comunale possibilmente con il consorzio di bonifica e qui ringrazio il presidente Bottino che come anche per la mozione precedente anche in questo caso è stato presente in commissione e ha, credo in maniera molto esaustiva almeno per parte mia, illustrato i vari temi che ci sono in campo oltre che al lavoro del consorzio negli ultimi anni e nell'ultimo periodo sul nostro territorio anche con numeri, con esempi, con investimenti riportati e quant'altro, ma poi ha anche illustrato in maniera più dettagliata e puntuale il, diciamo così, progetto di riorganizzazione del consorzio anche, IVI inclusa, tutta la questione a cui accennavo della nuova sede, arrivando a illustrarci anche un contesto nel quale comunque sul territorio cristoese si manterrà e anzi se ne dovrà trovare una più idonea da un punto di vista di spazio e caratteristiche, si manterrà una sede di tipo operativo e che non ci saranno cosa evidentemente rilevante che è emersa durante la commissione, come era anche normale che forse non ci saranno, diciamo così, perdite di posti di lavoro, razionalizzazioni in questo senso Nella mozione si chiedeva, e chiudo su questo, anche da questo punto di vista di fare in modo che il Comune di Pistoia potesse farsi parte attiva di questo processo individuando, perché no e proponendo, perché no per parte proprio, per quanto possibile, anche delle ipotetiche aree in cui da destinare a un utilizzo di sede operativa per il consorzio, fermo restando che ovviamente si tratterebbe di una sede che servirebbe, se così si può dire, non solo il Comune di Pistoia, ma tutti i comuni consorziati della nostra area e che quindi ha determinate esigenze di spazi, di operatività, anche di posizione ovviamente all'interno del territorio, ma Pistoia ha un territorio vasto, può avere degli spazi e quindi diciamo così si invitava attraverso questa mozione anche a immaginare in un'interlocuzione con il consorzio potenziali spazi idonei per la nuova sede operativa. Con l'idea che questa sede operativa, cerco di andare a chiudere, si possa rimanere come punto di riferimento importante per il nostro territorio, fermo restando che almeno nell'illustrazione direi piuttosto puntuale che c'è stata fatta, penso si possa riconoscere da parte del consorzio un'attenzione abbastanza importante, voglio dire così, rispetto al territorio pistoiese con tutta una serie di investimenti negli ultimi anni che ci sono stati illustrati e che comunque sicuramente portano a un giudizio che almeno per parte mia è globalmente molto positivo e nel quale spero anche si possa continuare secondo questa luna. Quindi per chiudere questa mozione invitava per un verso a giocare il ruolo che dicevo, comunque farsi parte attiva sulla partita della nuova sede operativa nell'ambito della riorganizzazione del consorzio più complessiva sul territorio di Pistoia e poi, e credo che sia un elemento che è stato già colto, almeno credo e spero utile per tutti e tutte, il fare un, diciamo così, raggiungere uno stato dell'arte rispetto a investimenti in corso, prospettive per gli investimenti e i lavori sul nostro territorio che, come sappiamo e non devo spiegarlo a nessuno io, anzi, diciamo, soffre tuttora e ha tuttora tutta una serie di contesti che in termini di rischio idraulico sono particolarmente delicati e quindi merita un'attenzione che va crescendo e non certo a diminuire. Bene, grazie. Ci sono interventi, passo la parola al consigliere Galligani. Buonasera a tutti colleghi, finalmente siamo tornati nel luogo deputato alla democrazia rappresentativa di questo, un piccolissimo, un ciso, sono molto contento perché, almeno dal mio punto di vista, questo ultimo anno e mezzo in cui siamo stati costretti, che sia stato divertente per nessuno, ma a svolgere la democrazia attraverso uno strumento telematico, io credo che il dibattito ne abbia perduto soprattutto il confronto e anche la possibilità di trovare soluzioni diverse, condivise e concordate, perché è molto più facile intendersi faccia a faccia che dovessi guardare attraverso uno schema e passata questa considerazione doverosa, perché è il primo incontro dopo tantissimo tempo in presenza, veniamo alla mozione di cui ha appena parlato il collega Tripi, di cui abbiamo parlato in commissione a lungo con il Presidente del Consorzio, che ringrazio perché ci ha fatto un quadro molto interessante e ci ha fornito diversi spunti per comprendere non soltanto la situazione delle società consortili, ma più probabilmente in generale un po' la situazione di molti istituti pubblici o comunque a rilevanza pubblica. Inizialmente ci ha fornito un quadro paradigmatico della storia degli ultimi anni, che è connotata da sempre maggiore accentramento, lo spostamento delle funzioni e una concentrazione, la sintetizzazione delle funzioni pubbliche con un conseguente inevitabile allontanamento di queste funzioni da cittadino, almeno per quanto riguarda l'interfaccia fisica. E questo per quanto sia abbastanza inevitabile, probabilmente, almeno la politica non ha ancora trovato una soluzione che inverta il procedimento, forse dovrà farlo, presenta degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. I aspetti positivi sono chiaramente un risparmio delle casse pubbliche e anche delle casse di questi enti a rilevanza pubblica. Il lato negativo si capisce appunto l'alloraggio dei servizi dal cittadino e la difficoltà sistematea del cittadino che devono relazionarsi con questi enti. Successivamente il Presidente, già sintetizzo al massimo perché questo è il lavoro di ore di commissione chiaramente, fornito quella che è stata la soluzione strategica che la città consertile ha trovato per riorganizzare all'interno di questa funzione gli enti. Sostanzialmente gli enti vengono raggruppati dal punto di vista strategico, programmatico a Firenze, quindi nella sede centrale ci diceva e si chiedeva. Scusi, non sbagliato. Sento delle interferenze, posso continuare? Presidente. Ci sono delle interferenze telematiche anche qui. Concentrare la sede a Firenze anche per la vicinanza non solo all'ente che è il partner principale della sua consertile, ma in generale anche all'ente finanziatore. E poi mantenere sul territorio, non sui territori intesi come comuni, ma come bacini idrografici, chiaramente che non si sta parlando di un'organizzazione politica, ma di un'organizzazione di ordine idrogeologico, delle sedi territoriali, che devono avere ovviamente delle caratteristiche ben definite, perché queste sedi operative devono ospitare i mezzi, devono ospitare coloro che programmano, e quindi tutte queste necessità devono essere riscontrate da queste sedi operative. Ovviamente sul Pistoia è stata, sul bacino idrografico, comprende Pistoia, era stato stilato un bando e questo primo bando ha incontrato alcune difficoltà. Allora questa è la strategia aziendale, chiaramente, dell'azienda consertile si utende, chiaramente la politica non può, per quanto la politica capisce quelle che sono le necessità del consorzio, non può soltanto occuparsi di quelle che sono le necessità della società consertile, di conseguenza deve tutelare quelli che sono gli interessi comuni. Nella fattispecie, e su questo ci sono state alcune domande in commissione, gli interessi dei lavoratori che erano coinvolti, successivamente le pericolosità, perché la politica non deve tutelare la sicurezza del territorio, sia dal punto di vista degli interessi del cittadino, che in questo caso è anche consumatore, sia ovviamente gli interessi in termini di sicurezza, perché si sta parlando di una situazione idrogeologica che di anno in anno si fa sempre più complicata anche alla luce del cambiamento climato, e quindi la politica non può disinteressarsi. Per questo motivo l'interlocuzione è stata continua con la società consertile e diciamo che questo emerge anche dai verbali che sono stati ispirati dalle riunioni e in generale per l'interlocuzione che l'amministrazione ha portato avanti con la società consertile. Ora, venendo al testo della mozione e concludendo, per quanto riguarda i due punti della mozione, il primo punto secondo me è stato più che esaudito in questa audizione che c'è stata in commissione, che è stata utile, e quindi in questo senso la mozione ha raggiunto il suo primo obiettivo e di questo non possiamo che essere contenti perché queste informazioni che ci sono state date ci sono state date però sistematicamente a tutti i commissari, non soltanto a un commissario o a un consigliere che li chiedesse. Quindi per quanto riguarda se dovessero sorgere ulteriori problemi, io credo che ogni consigliere sulla base delle informazioni che abbiamo avuto potrà relazionarsi con l'amministrazione con maggiore consapevolezza. Quindi il primo punto direi che è stato raggiunto. Per quanto riguarda il secondo punto, è evidente che alla luce di quello che ho detto sulla necessità che la politica si interessa di questi problemi, non si può che essere favorevoli affinché il Comune di Pistoia si relazioni con la società consertile nella redazione del successivo bando che dovrà essere diramato perché abbiamo tutto l'interesse che ci sia sul territorio una sede operativa ma non soltanto come mezzi, come trattori, come escavatrici ma anche come portello perché il cittadino, per questo è importante anche la vicinanza al nostro territorio perché la struttura deve essere idonea che un cittadino che ha da chiedere, da informarsi, da relazionarsi con la struttura deve poterci andare e ricevere le risposte perché altrimenti non si tratta di una razionalizzazione ma di un taglio a un servizio che è essenziale per i cittadini. Quindi questo è fondamentale. Detto è che questa interlocuzione è già in essere, che l'assessore ce ne ha puntualmente relazionato in Commissione. Di conseguenza da questo punto di vista io credo che per il 50% il risultato positivo della mozione sia stato raggiunto. Per l'altro 50% è in essere, quindi io condivido il punto politico della mozione. Per quanto riguarda la propositività verso il futuro ho qualche dubbio. Ultima questione. Individuando possibili sedi da proporre al consorzio entrando un corso. Ora, è più consono secondo me all'amministrazione comunale vista anche la difficoltà di individuare degli spazi che hanno quelle dimensioni e quella funzione. L'amministrazione comunale non è un'agenzia immobiliare. Di conseguenza direi forse è più consono che l'amministrazione si faccia da interlocutore per trovare persone che possono essere interessate a partecipare a questo bando. questo è probabilmente più consono a un'amministrazione comunale che è un interlocutore, non è un'agenzia immobiliare. Però questo è un dato più linguistico che politico. Grazie. Bene, grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Alberto. Grazie Presidente. Dunque, questa questione della mozione che era datata di lunghi tempi, è vero, una serie di questioni hanno portato poi in discussione neanche molto tempo fa, credo che sia stata una delle prime, anzi, è la prima commissione dopo il periodo delle ferie, e voleva si impegnare, impegnare l'amministrazione comunale nei confronti di un ente importante, quello del Consorso di Bonifica Medio al Valdarno, come rilevanza del nostro territorio, rilevanza operativa, e poi scaturiva questa mozione da una necessità, siccome essendo diventato un consorzio che prendeva tre ex consorsi più due comunità montane, aveva concentrato come idea e come complesso di gestione tutto spostando fuori da Pistoia. Dunque, la preoccupazione di questa mozione era quella di richiamare politicamente un tavolo di tutela, di tutela territoriale, di tutela dei lavoratori che sono impegnati a Pistoia, e questo era il motivo principale dove in pratica si voleva porre la questione sedendosi a un tavolo e affrontandolo a tutto tondo perché queste garanzie del nostro territorio fossero mantenute e per il personale e per la sede operativa, meno che quella fosse amministrativa, perché è abbastanza intuibile che tutto dovrebbe essere spostato nella zona di Firenze, nella zona dove c'è più complessità di gestione del consorzio stesso. Allora, aveva questo intento, naturalmente le cose sono andate scivolando e volevano mettere a conoscenza l'intero Consiglio Comunale proprio per questo intento. È vero, sicuramente il Sindaco, la Giunta, ha avuto interlocuzioni con il consorzio, il consorzio che ha impegnato in questi anni molte risorse, oltre 4 milioni di euro, per il nostro territorio pistoiese, cosa necessaria perché naturalmente sappiamo tutti la fragilità del nostro territorio sull'aspetto idrogeologico, ma sono stati impegnati 36 milioni circa di euro in complessivo con finanziamenti regionali che hanno portato dunque a una condizione migliorativa il nostro territorio della piana pistoiese, molto esteso. Non pistoia e basta, ma chiaramente tutta la piana. Allora, questa era una mozione che aveva questa intenzionalità. Purtroppo non abbiamo potuto discutere nei tempi dovuti. Diciamo che per quello che ci raccontava nella Commissione, a me preseduta, in tempi non molto lontani, ma il Presidente comunque sta andando in questa direzione, cioè quella di individuare una sede operativa nella piana pistoiese, una zona aliena e roba del genere, una sede operativa dove in pratica tutto il consorzio della zona potrà avere un punto di riferimento senza trascurare pistoia. Cadrà quasi nel dimenticatoio la sede attuale, perché naturalmente è una sede di angustia, è una sede di difficoltà con un consorzio del genere. Ecco, però quello che evidenziava questa mozione e voleva evidenziare questa mozione era l'interesse dell'intero Consiglio Comunale perché ognuno di noi poteva dare un supporto di positività e di attenzione nel nostro territorio pistoiese, sia come sede operativa, sia come servizi e come personale, perché una parte del personale sicuramente dovrà essere portato in sede centrale. L'intento era questo, devo dire che sta andando in questa direzione, così è stato annunciato da Presidente Bottino che come al solito è stato massicciamente presente nella Commissione e che ha raccontato dei dettagli che stanno arrivando. La conclusione di questa operazione ancora non c'è, ma diciamo che ci deve rendere un po' tutti con partecipi ancora in attenzione perché il nostro territorio non venga sminuito di quelle che sono le potenziali normi di necessità per pistoia. Necessità, ripeto, che sicuramente sono inferiori visto gli investimenti di qualche anno fa, visto i notevoli investimenti, cosa necessaria. infatti stiamo vedendo che fortunatamente ad oggi incrociando le dita la nostra piana ha subito positività. Ecco l'intento di questa mozione. In Commissione ne abbiamo discorso abbastanza lungamente, più che altro abbiamo ascoltato a questo punto ciò che era già avvenuto, ciò che in pratica si stava concludendo. Penso che comunque ognuno di noi abbia sollecitato nelle proprie sedi, nelle proprie spazi di visualizzazione politica che questa vicenda del consorzio non si scostasse totalmente da pistoia come logistica e questo è quanto credo che era la mozione. Questo è ciò che volevo ribadire nella vicenda di stasera. grazie buonasera grazie consigliere ci sono altri interventi? Sì prego consigliera Nuti Sì grazie Presidente Sindaco Assessori e colleghi consiglieri effettivamente è stata una mozione che ha riportato a informazioni rilevantissime il consiglio comunale e la commissione competente perché dal verbale emerge proprio tutta la lunga storia per andare a trovare una sede e le difficoltà che il consorzio stesso ha incontrato e superato e le finalità anche perché proprio quella sede avesse certe caratteristiche è stato importante fare chiarezza dai verbali è bene che risulti il lavoro svolto visto che nei consorzi la componente pubblica è molto nel consorzio ombrone la componente pubblica è molto elevata è elevata credo quindi che effettivamente la mozione abbia intanto assolto ha un compito importante che è quella della trasparenza e della conoscenza riguardo anche al secondo punto che la mozione stessa chiede cioè chiede all'amministrazione di impegnarsi per la realizzazione di una nuova sede operativa a Pistoia individuando alcune possibili sedi da proporre al consorzio entro l'anno in corso leggo delle questioni che richiedono attenzione anche da parte credo dell'opposizione dopo aver ascoltato l'intervento del consigliere Gallegano intanto che una sede del consorzio rimanga a Pistoia credo che sia un impegno che non solo l'amministrazione sta perseguendo ma deve continuare a perseguire e le cose quando si iniziano sappiamo bene che a volte hanno un esito positivo e talora non riescono a raggiungere l'obiettivo primo fra tutti è la sede che volevamo tutti indistintamente operativa di Publiacqua che sappiamo bene averci salutato abbondantemente e esserci andata a Pistoia una sede operativa nel senso c'è un frontop è un ufficio ma non c'è quello che c'era prima perché perché la sede del cantiere non aveva certe caratteristiche perché poi comunque attualmente lo spostamento di tutta una operatività ma anche di lavoratori che da Pistoia lavoravano su Pistoia attualmente è tutto spostato su Prato nuovamente su Prato e noi quello non l'abbiamo certamente voluto non credo nessuno di noi l'abbiamo voluto eppure era stato fatto di tutto perché rimanesse lì altrettanto le sedi sappiamo quanto le sedi che contano quelle dei servizi alla persona che non si limitano soltanto a un frontopist ma si limitano ma vanno ben oltre vanno a una conoscenza del territorio perché si frequenta perché siamo radicati perché le maestranze lavorano lì perché c'è un'esperienza tendono a allontanare ad accentrarsi ma questo noi dobbiamo almeno per il contorzio assolutamente contrattarlo e se c'è già un'attività in corte documentata dall'assessore competente affinché il sede rimanga qui questo abbiamo visto nel passato non basta noi dobbiamo continuare a perseguirlo e la mozione diventa una mozione superata laddove effettivamente la sede resterà a pistoria ecco perché l'invito credo della mozione debba essere interpretato in un respiro molto più ampio che va oltre chi presenta la mozione cerchiamo effettivamente di cogliere il senso valoriale di questo punto e riteniamolo tutti conseguito al momento che la sede rimarrà effettivamente a pistola certo l'amministrazione non è un'agenzia immobiliare sappiamo bene che questo non è ma sappiamo anche bene proprio perché quel verbale della commissione 2 ce lo racconta di come gli enti pubblici quando c'è un interesse pubblico superiore possono indirizzare le società in questo caso questa azienda ha in una direzione non altra sembra che la regione toscana stessa abbia poi fatto delle proposte al consorzio affinché riuscisse a individuare la sede operativa migliore per la sua efficacia ed efficienza quindi non è quello che si chiede una questione di di professionalità immobiliare ma è veramente un'attività che l'administrazione pubblica è chiamata a fare quando l'obiettivo è un obiettivo di rango superiore e in questo caso lo è allora io vedendo che ancora le parti non sono perte il lavoro da fare è ben improntato da parte del consorzio da parte dell'amministrazione che è presente e attiva beh allora impegniamoci continuiamo a chiedere questo impegno consideriamo la superata solo quando è conseguita ancora non è conseguita e sappiamo per esperienza di come tutto va abbastanza fuori io credo che la mozione sia veramente un patrimonio in questo caso un patrimonio di tutti ringrazio gli estensori ma la ritengo sinceramente una mozione nella quale si può tutti effettivamente riconoscere quindi invito anche la maggioranza a non dare per terminato un'attività quando è in corso grazie bene grazie la parola alla consigliera Cervini prego sì grazie presidente buonasera sindaco assessori e colleghi consiglieri allora io eh devo ammettere che la commissione a cui appunto ho assistito in data 8 settembre è stata davvero una commissione illuminante perché io ammetto la mia ignoranza in merito io non non sapevo ehm appunto che il consorzio aveva un bel patrimonio immobiliare ad esempio ehm e ho detto ma bene ebbene questo è una cosa positiva appunto che un consorzio sia abbastanza ricco no? in quanto a patrimonio immobiliare ricchi ma sfortunati perché su cinque immobili di proprietà non averne uno adatto a svolgere il ruolo di sede principale insomma è una sfortuna perché insomma con cinque sedi di proprietà dover andare a dare l'affitto non è piacevole poi a quattrocentomila euro è sembrato appunto uno spreco enorme la speranza ovviamente ehm che questi che questi soldi eh non vengano tolti ai lavori sul territorio la speranza è anche che si riesca ad affittare o a vendere le sedi non utilizzate e la speranza è soprattutto che non si veda aumentare la contribuzione da parte dei cittadini sono rimasta anche un po' perplessa devo dire la verità perché avrei preferito anche che venisse fatta l'operazione di trasferimento in contemporanea con eventualmente la vendita o l'affitto di qualche immobile però per carità capisco anche che se da tre consorsi se ne fa uno sia difficile riorganizzare le attività e anche il lavoro delle persone la notizia bella che ci ha dato durante la commissione il dottor Bottino appunto e anche che non ci saranno licenziamenti almeno io ho capito così ho anche riletto il verbale ma eventualmente ci saranno assunzioni insomma e di questi tempi son notizione no? Ulteriori perplessità le ho avute anche sull'unica offerta pervenuta per la sede pistoiese da quanto ho capito dovrà assolvere al ruolo di sede operativa ma anche eh amministrativa diciamo no? con uno sportello per i cittadini a cui ovviamente vanno date delle risposte e mh personalmente ritengo che se fosse meno decentrata un po' più baricentrica appunto secondo me sarebbe meglio per non parlare del fatto che chi ha proposto quest'area da quello che ho capito non ne ha la disponibilità ma si è appunto impegnato a farla vendere al proprietario ecco questo per dire che preferisco le cose un pochino più più lineari ecco più più chiare e soprattutto più rispondenti ai requisiti del bando poi visto che il presidente Bottino ci disse che i vari interventi sarebbero partiti anche dalla sede dello smannoro io troverei diciamo più pratico avere una sede più vicina anche alla montagna pistoiese che non magari alla ferruccia perché insomma si sa di quanti interventi ha bisogno la nostra montagna per carità anche la zona di Agliana appunto Bottegone insomma tutta la piana però visto che quella zona è facilmente raggiungibile anche dallo smannoro preferirei una sede un pochino più vicina magari al comune quindi alla zona montana e che dire io sono sono abbastanza preoccupata ecco non solo perché pistoia perde una sede importante e sembra che tuttora debba stare a Firenze così molti servizi vengono ridotti e questa non è una cosa positiva per la nostra città io mi auguro solo che anche questa scelta non ricada sulle tasche dei cittadini pistoiesi altrimenti credo che saranno dolori per quanto riguarda la mozione io credo sia opportuno anticipare appunto che il mio voto e anche quello del mio capogruppo con cui mi sono confrontata sarà un voto contrario e vorrei appunto spiegare alle persone che hanno presentato questa mozione la motivazione non certo per il punto uno appunto dove voi chiedete di programmare un nuovo confronto tra la commissione competente e i rappresentanti del consorzio sto leggendo ecco no questo no perché ritengo anch'io che sia una cosa giusta ma non posso votare a favore per impegnare l'amministrazione per la realizzazione della nuova sede operativa Pistoia individuando alcune possibili sedi da proporre al consorzio entro l'anno in corso allora primo il comune sembra da quello che ho capito che non abbia degli immobili per poterci appunto realizzare la sede operativa ma soprattutto perché il comune non è un'agenzia immobiliare non è che ha all'interno degli acquisitori che vanno a fare il porta a porta come ho fatto anch'io nel lontano 2000 per trovare immobili quindi sinceramente io credo che il comune non possa assolutamente impegnarsi in questa ricerca se i proponenti vorranno modificare le loro richieste potrò anche votare a favore per come è impostata appunto questa richiesta il gruppo Lega non può assolutamente votare a favore grazie bene grazie la parola alla consigliera Potti sì allora devo dire che sicuramente mi dispiace quello che ha detto da poco appunto la consigliera Cerdini perché giustamente come diceva l'apogruppo Nuzi qui si sta parlando di un di un interesse pubblico generale per cui credo che un'amministrazione che sicuramente non è un'agenzia però affinché questo interesse pubblico generale che è quello appunto di avere una sede operativa il più possibile appunto come dicevi di un'amministrazione che è un'amministrazione che possa essere operativamente nella zona è sicuramente un interesse che un'amministrazione deve cercare il più possibile per poterlo tutelare poi non è certamente qui si chiede un impegno quindi non è non si obbliga all'amministrazione è un impegno che un'amministrazione in quanto tale credo che il minimo possa fare è quello di assumerselo certamente allora per quanto riguarda questa cosa invece che abbia avuto appunto il merito di portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa come quella che facemmo già nel 2018 su ciò che rappresenta appunto per il nostro territorio il ruolo del Consorzio di Bonifica che soprattutto sappiamo essere il nostro territorio un territorio con molte problematiche idrogeologiche e che devono essere costantemente attenzionate e soprattutto alla luce di quelli che sono ormai i cambiamenti climatici che purtroppo hanno dei risultati nel nostro territorio perché appunto forti precipitazioni che determinano allagamenti inoltre sappiamo che il nostro territorio c'è il tema dell'impermibilizzazione dovuto appunto alla presenza del vivaismo e soprattutto credo che sia una mozione importante perché ci ha dato l'opportunità di fare un tracciato di quello che è stato il lavoro svolto dal Consorzio di Bonifica ad oggi ed anche ci ha parlato del nuovo pub per cui di quello c'è che il programma il Consorzio di Bonifica e che è praticamente abbiamo visto insomma che abbiamo avuto contezza anche numerica di quelli che sono stati e che saranno gli investimenti in questo finora e nel prossimo futuro sapendo che grazie anche al contributo della regione sono possibili perché come c'è stato spiegato per quanto riguarda la manutenzione ordinaria è a carico intero del Consorzio mentre per la straordinaria è un 70-30 e addirittura per quella strutturale quindi quelle opere che fanno per modificare è a carico completo della regione quindi abbiamo avuto contezza di quelli che sono le risorse economiche messe a disposizione e che hanno e che sono stati fatti molti investimenti che per rendere più sicure e risolvere alcune situazioni di pericolo sui nostri corsi di acqua e poi è stata anche l'occasione appunto per chiarire il tema della delocalizzazione della sede che abbiamo appunto appurato che al di là di alcune considerazioni anche giornalistiche un po' allarmistiche erano state fatte anche dall'amministrazione e forse ecco poi alla fine il presidente ci ha parzialmente dipanato che questi allarmismi erano forse infondati parzialmente perché comunque si tratta appunto di una riorganizzazione logistica che era già stata approvata della finanziaria del 2013 e che comunque ha lo scopo di ottimizzare di razionalizzare il lavoro del consorzio di bonifica 3 e abbiamo anche compreso che nell'intenzione quindi l'intenzione di persone che insomma che hanno la dignità di essere delle che hanno delle responsabilità è quello che viene detto si pensa anche che poi verrà fatto c'è quello di trovare appunto questa sede operativa che necessita di molti chilometri sì che di molti metri quadri di superficie e che era stata individuata ma poi è successo appunto che si è visto che c'era un'incongruenza con chi aveva partecipato al bando e che quindi dovrà essere rifatto quindi io credo che in questo senso la mozione va nel chiedere un impegno all'amministrazione perché comunque l'amministrazione lo ripeto giustamente come qualcuno ha fatto osservare non è un'agenzia immobiliare però ha la capacità comunque di farsi vedere partecipe di farsi vedere parte attiva di questa esigenza che noi abbiamo di avere una sede operativa una sede operativa che ci è stato assicurato avrà più mezzi avrà più uomini e anche non è sicuramente una questione da poco il fatto che ci è stato assicurato che non ci saranno licenziamenti e che è stato trovato quindi questo accordo con l'RSU per lo spostamento dei dipendenti che saranno quei dipendenti che dovranno andare a Firenze perché erano quei dipendenti che seguivano il catastro le gare gli appalti quindi la parte amministrativa ecco io credo quindi che questa mozione potrebbe essere stata scritta anche dalla destra dal centro da chi vi pare cioè non è una una mozione ideologica che vuole accusare che vuole dire voi non avete fatto no è una richiesta credo di buonsenso cioè quella siccome come dice come ha detto giustamente la consigliera che purtroppo si è visto come quando si è trattato di fare delle delocalizzazioni poi Pistoia è rimasta con il cerino in mano quindi mettiamoci come dire per l'avanti facciamo in modo invece in questo caso l'amministrazione sia lì da pungolo sia lì anche da aiuto per cercare appunto di fare in modo che la sede venga la sede operativa venga trovata nel nostro territorio quindi ecco qual è la razza di questa mozione sinceramente ecco se non solo per un fatto ideologico non vedo qual è l'ostatività ad essere favorevoli a questa mozione quindi faccio un appello a tutti gli altri consiglieri insomma di valutare qual è appunto la ragione ecco di questa di questa nostra mozione grazie grazie consigliera ci sono altri interventi allora non ce ne sono presidente prego consigliere Maglione grazie presidente io riprendo le considerazioni prima di tutto fatte dal collega Galigani e credo di poterle condividere in pieno compreso anche il fatto che ci ricorda ma che sia una sottolineatura per enfatizzare il ruolo specifico di un'amministrazione comunale cioè quello ovvero di non essere chiaramente una agenzia immobiliare e quindi sono d'accordo con lui in sostanza perché riconosce che ci sia una razza condivisibile in questa mozione con l'unica punto specifica di quella che è la funzione pubblica e a riguardo anch'io tengo a precisare una cosa perché è scontato che siamo tutti d'accordo che non si chiede all'amministrazione di fare da intermediario tra il consorzio e magari un soggetto privato o altro questo va da sé però però è anche vero che come diceva la consigliera Cerdini anch'io ho un punto interrogativo ed è quello di non sapere se l'amministrazione ha fatto per esempio un'opera di ricognizione su quelli che sono i propri immobili eventualmente sui quali fare una valutazione e vedere se in qualche modo possono essere rispondere alle esigenze del consorzio perché quando la consigliera Cerdini suggerisce o auspica che questa sede operativa dove appunto i nostri concittadini possono andare a rivolgersi di persone e non solo per questioni amministrative magari fatte per via telematica dice una cosa che condivido anche questa in pieno addirittura lei fa riferimento magari a aree del nostro territorio magari meno fortunate da un punto di vista della possibilità del rapporto diretto o di vicinanza con gli uffici della pubblica amministrazione o comunque uffici che offrono servizi al pubblico e sottolinea appunto queste difficoltà per realtà territoriali anche che magari sono potenzialmente più interessate a certe esigenze magari anche a certe problematiche sto pensando appunto magari alle zone collinarie montane del nostro comune è chiaro che sarebbe bello no collega Cendini poter avere una ramificazione sul territorio magari di più punti che vanno a soddisfare le esigenze di tutti gli abitanti del nostro comune però è chiaro che qui non si può addivenire a una soluzione diciamo teoricamente perfetta ma colgo poi nella sua invece contrarietà alla possibilità che l'amministrazione si impegni ed è appunto quello il secondo punto della della mozione quantomeno il tentativo di provare a cercare quelle soluzioni che ripeto a mio avviso dovrebbero prima di tutto passare attraverso una verifica delle proprietà del comune perché di questo non so se magari i consiglieri di maggioranza hanno notizie più approfondite più specifiche su questo però io devo dire come altri colleghi della minoranza non sappiamo se e cosa è stato fatto da questo punto di vista e qualora appunto ve ne fosse la possibilità e questa la richiesta della della mozione che non chiede che il comune e l'amministrazione garantisca di mettere a disposizione in qualche modo immobili o propri o comunque di soggetti terzi attraverso un'opera di intermediazione che sarebbe e lo ribadisco assolutamente insomma fuori dalle dalle funzioni dell'ente però potrebbe appunto sollecitare l'amministrazione in questo in questo senso e non ci vedo assolutamente dato che si sta parlando di un interesse pubblico di un interesse generale come purtroppo non perché purtroppo perché lo ricordava ma purtroppo per come sono andate le cose lo ricordava prima la consigliera Nuti abbiamo visto che alcuni alcune dichiarazioni di intento di soggetti che comunque hanno una parte di controllo pubblico di partecipazione pubblica poi invece si sono un attimino sciolti come neve al sole prima veniva citata Publiacqua allora se vogliamo essere coerenti con l'idea che credo anch'io trasversale che non debba appartenere a una forza politica in particolare ma uno di tutelare i livelli occupazionali che pare comunque siano stati garantiti c'è stato rappresentato in commissione che questi non verranno incisi da questa eh eh da questo nuovo eh questa nuova formulazione questo nuovo raggruppamento dei consorsi ed è un fatto importante per il territorio ma lo diventa ancora di più come elemento che va a cementificare questo impegno il fatto che si possa fare tutto il possibile senza pretenderne poi il il risultato per arrivare ad una eh acquisizione o comunque ad un impegno di eh un edificio idoneo da proporre al al consorzio ecco io credo che in questo la mozione abbia un suo senso e e non va quindi a contrastare con quelle che sono state le anche condivisibili osservazioni di di consiglieri di maggioranza alla luce di questo credo che eh appunto dovremmo essere stimolati tutti in questa direzione e se non ci sono ragioni particolari per fare ulteriori considerazioni nella dichiarazione di voto anticipo il voto favorevole del movimento grazie bene grazie ci sono altri interventi non ci sono interventi sì sindaco prego grazie presidente assessori colleghi e consiglieri eh soltanto per darvi anche alcuni passaggi ho sentito quasi tutti gli interventi mi scuseranno avevo soltanto un appuntamento di là ho perso qualche minuto di interventi dei colleghi eh consiglieri per eh per dire che noi questa vicenda l'abbiamo seguita fin dall'inizio eh con un concetto che è quello che nessuna amministrazione nessun comune quando si tratta di soldi pubblici quando si tratta di efficientamento del consorcio piuttosto che di altre aziende è contraria a razionalizzare è contraria a migliorare i servizi è contraria a eh l'eventualità che si producano risparmi e questo con questo spirito diciamo eravamo andati incontro alla richiesta di vagliare l'ipotesi di eh verificare sul territorio ampio tramite un bando eh pubblico se ci fosse una sede con le caratteristiche come sembra avere quella eh di Firenze per poter raggruppare le funzioni del 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 consorcio ecco ci tengo a a dirlo perché è evidente non vogliamo passare per quelli che fanno una battaglia meramente campanilistica non e a soltanto legata al territorio a danno consorzio di risorse pubbliche questo vorrei che fosse chiaro perché naturalmente lì eh i contribuenti sono i nostri concittadini avere un consorzio che funziona è interesse di tutti quindi all'idea di trovare una sede di carattere amministrativo tecnico che riunisse le funzioni che diminuisse i costi che razionalizzasse beh non eravamo a prescindere il contatto e quindi abbiamo visto e con attenzione seguito qual era l'esito della ricerca e quindi il bando pubblico le sedi che sono state rivistate più sedi prima di scegliere quella di Firenze la scelta di Firenze soprattutto documentato all'interno dei documenti delle relazioni del consorzio soltanto che quando siamo arrivati alla definizione della sede al voto sono iniziate le pressità innanzitutto perché se lo ricordo male il nostro delegato è sempre stato Alessio quando era arrivato l'ordine del giorno in cui si discuteva di questa nuova sede nell'ordine del giorno si parlava di informazione su questa nuova sede e quindi noi non eravamo lì per ricevere le informazioni e non per deliberare niente ma soltanto per capire l'esito di questa ricerca e valutare se votare e se andare avanti non purtroppo in quell'occasione non non è andata così non abbiamo deliberato abbiamo rimandato non ricordo le date scusate ma è tutto tant'è che con una lettera la mia lettera del 17 febbraio dopo questa ecco il 16 febbraio si è tenuta la riunione con la mia lettera il 17 febbraio io vi leggo è molto breve l'assessore Bartolomei su mia delega ha partecipato alla riunione dell'assemblea del consorzio che si è tenuta ieri sera mi ha informato della questione sorte in ordine alla discussione del punto se è l'ordine giunto il punto come ben noto trattava di comunicazioni circa la nuova sede amministrativa consortile comunicazioni fin dal pomeriggio che avevo manifestato si rivolge al presidente del consorzio mi rivolgo alcune perplessità circa l'opportunità di procedere come previsto successivamente quando Bartolomei mi ha aggiornato sul contenuto delle comunicazioni i dubbi sono aumentati al punto che devo chiederti alcuni chiarimenti in assenza di quali mi vedrei costretto a valutare con attenzione la posizione da prendere in assemblea allo scopo di poter valutare in maniera più completa quanto contenuto nella proposta di deliberazione si chiede di avere copia dei seguenti documenti le diapositive mostrate nel corso della riunione del 16 febbraio che nemmeno avevamo ricevuto quindi sono state mostrate una serie di slide in cui si si dava conto di questa nuova sede e anche di un conto economico l'offerta relativa al fondo che è stato scelto comprensiva l'indicazione del prezzo con l'IVA se dovuta nel caso che il bene risulti intestato da una società i proprietari effettivi del tema l'altro problema è che questo bene è intestato ad una società di cui non si riesce a capire bene chi sono i proprietari i verbali della commissione di valutazione delle proposte di affitto la valutazione di congruità dei fitti attivi e passivi compreso il parere dell'agenzia del demanio il parere dell'ufficio delegale del consorzio eventuali pareri formali di altri enti locali vi chiedo inoltre di sapere il numero di dipendenti del consorzio e la loro distribuzione e il numero di interessati all'unificazione dei dottici voi capite che per noi è risultato offensivo arrivare ad un'assemblea a cui punto dell'ordine del giorno c'è comunicazione sulla nuova sede a questa assemblea ci viene mostrato una serie di slide che nemmeno noi abbiamo su una scelta determinante per il futuro del consorzio ecco io qui ho fatto un elenco banale delle cose che abbiamo chiesto in parte solo in parte ricevute perché alcune non esistono non ci sono ecco questa è stata la premessa di questa discussione ripeto sì alla razionalizzazione sì unire anche eventuali sedi in un piano più complessivo dove rientra Pistola sì avvalucare le proposte poi c'è un momento come in consiglio comunale come in un normale consiglio di amministrazione dove il risultato della ricerca le analisi economiche e i documenti si analizzano e tutti nell'assemblea si vota liberamente se aderire o meno a questa proposta ma solo sulla base della conoscenza dei dati dei pareri delle cose si può fare non semplicemente vedendo in un punto comunicazioni delle slide quindi siamo arrivati all'assemblea del dove dove si è dovuto decidere esattamente e abbiamo evidentemente votato contrario perché tutte le rassicurazioni e le cose che avevamo chiesto non sono arrivate aggiungo alcuni passaggi primo l'altra cosa che noi avevamo chiesto è che contestualmente le procedure che si erano date messe in moto per creare questa sede diciamo di carattere amministrativo che poteva interessare anche il comune di Pistoria quando ci fosse stata una risposta di un immobile che evidentemente non c'è sia da parte del pubblico che da parte del mondo privato vedesse contestualmente anche lo stesso tipo di operazione per avere una sede unica a Pistoria di carattere operativo anche questo in termini di razionalizzazione su questo ne pare tutti se si è d'accordo però noi contestiamo ancora lo voglio sottolineare al di là della mozione che ha un altro tema radicalmente in parte le motivazioni su cui reggono quella scelta di Firenze perché per esempio da un punto di vista economico ritenuta dell'operazione alla base delle motivazioni di una scelta per esempio si riporta anche che il consorzio prevede di contrarre attraverso le locazioni delle sedi degli immobili che si rendono liberi di proprietà circa 188 mila euro all'anno di cui 49 mila euro della via attraversa delle vede ecco io credo che ad oggi che sia del tutto evidente che questi 190 mila euro sono soldi che verranno a mancare ai cittadini nel servizio del consorzio che non verranno recuperati e saranno a carico del bilancio ma ancora e noi l'abbiamo sottolineato veniva detto che una parte delle spese del mutuo della ristrutturazione sarebbero state pagate dalle entrate derivate dall'affitto delle sedi che venivano lasciate ora io si può me lo agono con tutto il cuore mi agono che si riesca ad affittare voi capite che conosce un minimo il mondo nemmeno immobiliare vedete la situazione in cui ci troviamo la situazione in cui il direzionale non è nemmeno pensabile costruirlo capite che questa è sicuramente sarà sicuramente una cosa che peserà sul bilancio del comune benissimo ecco queste sono alcune cose peraltro pubbliche la sede di via attraversa della Vergine è di proprietà loro cioè loro loro dicevano che i posti che ci hanno rappresentato di trasferimento della nuova sede di affitto di eventuale mutuo per l'acquisto di rate di mutuo erano parzialmente sono parzialmente ammortizzati dal fatto che tutti gli immobili che loro lasciano libero verrebbero immediatamente affittati cosa che non è vero quindi quei 188 mila euro che derivano dagli affitti non entrano nelle tasse del consorzio quindi evidentemente sì 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 danni ai cittadini di tutto il consorzio quindi nel bilancio sì sì no 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 diciamo che nel bilancio questa entrata presumibilmente non ci sarà anche se mi auguro e quindi i soldi dovranno essere messi ai cittadini a danno dei servizi ai cittadini di tutto il consorzio ecco oltre a naturalmente tutti i temi avete sollevato lo spostamento dei dipendenti che ne ho già lavorato qui dovete andare a Firenze il depoponamento di un territorio come Pistoia per l'ennesima volta a scapito di Firenze e di Prato nemmeno di Prato di Firenze ecco quando avremo finito di scarnificare i territori di togliere qualsiasi tipo di funzione dagli altri territori per concentrarla a Firenze forse realizzeremo di essere una nostra metropolitana una regione perché questo è un problema della regione policentrica come tutte le altre regioni vedisi l'Emilia Romagna dove ci sono servizi distribuiti in tutte le città che hanno una loro una loro dimensione anche per i servizi resali quindi è stata un'operazione che non abbiamo condiviso nella parte finale della scelta per motivi di carattere economico per motivi di scelte politiche e ancora l'angue il bando dove per per scusate per la sede sul territorio di Pistoia dove ad oggi sembra aver aderito soltanto per essere arrivata nel bando per la sede della costruzione forse l'avete già detto una sola proposta che è attualmente al vaglio del del consorzio una proposta che deve essere ancora vagliata quindi non sappiamo l'esito se è positivo o meno nell'area di Agliana sì ecco è arrivata soltanto una proposta che è con protocollo 6471 del 19 luglio 2021 denominazione dell'immobile ex magnificio Arianna via Selva Agliana questa è l'unica proposta che attualmente è arrivata esattamente quindi deve essere ecco diciamo si sente a tratti anche qui mi senti anche qui vorrei essere molto chiaro anche qui non ne faccio una questione di campanilismo del mero perimetro del comune ecco diciamo però una questione di territori quindi se la sede di Arianna se verrà voltata che ha tre chilometri da pistoia o se 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 tra pistoia il problema è proprio di territorio dove devono svolgere un certo tipo di attività quindi ecco mi faccio anche carico anche della provincia o della piana ecco perlomeno dei comuni della piana ecco non può essere una guerra tra singoli comuni di pochi chilometri però di un territorio tutto dove ci sono importanti asti fluviali vanno mantenute dal consorzio buone questo sì perché il paradosso sarebbe che addirittura la sede operativa venisse portata fuori addirittura dalla provincia allora lì veramente saremmo alle comiche finali quindi volevo darvi queste queste notizie scusatemi perché è una vicenda di quasi qualche mese fa volevo aggiornarvi il comportamento che ha tenuto il ripeto l'operazione di Firenze ha ancora tutto da dimostrare quale efficienza ed economicità ha portato al consorzio lo deve ancora dimostrare in tutto per noi secondo me avrà costi aggiuntivi per o meno ad oggi e ancora si deve chiudere la partita dell'eventuale serie del canchietto e tutti quanti questa sembra una cosa positiva vogliamo si mantenga sul territorio è finito il tempo di pensarci per singoli comuni allora micro comuni benissimo però come territorio diciamo come questo secondo me va assolutamente mantenuto grazie bene grazie allora non ci sono altre richieste di intervento per cui la mozione vada in questo in questo ordine comunque va bene comunque grazie al sindaco che ci ha detto queste cose però la mozione mi sembra chiede proprio quello un impegno da parte dell'amministra bene grazie allora passiamo alle dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto il presidente consigliere anuti e poi consigliere tripi allora prima mi dicono il capogruppo tripi prego sì è indifferente grazie mi scuso se non attivo il video ma temo di avere poca banda quindi sono dal telefono e quindi preferisco così dunque intanto ringrazio ringrazio tutti i consiglieri le conoscere e anche il sindaco per gli interventi su questa mozione che si consigliere non la sentiamo nemmeno con il video spento magari se riesce a trovare un posto dove si riconnette meglio e nel frattempo fare intervenire la capogruppo nuti più non mi sento nemmeno ciò ma ciò non mi sento il capogruppo poi il problema è qualche consigliere del suo gruppo lo sentite ora raggiungere eh no consigliere tripi non non si sente sì c'è l'anzino bene e allora mi sentite per caso consigliere nuti e ai suoi vogliamo gli organizzati poi sì però il consigliere tripi sta continuando a parlare e arriva a scatti perché non mi sente cerco di avvertirlo grazie bene grazie mille allora a questo punto passo la parola al capogruppo nuti per la dichiarazione di voto sì sì grazie presidente signor sindaco assessori e colleghi consiglieri l'intervento sindaco ha chiaramente aperto una finestra e ha illuminato delle riscende che possono anche motivare la posizione della maggioranza rispetto a questa mozione però io le chiedo sindaco di più prima lo so che devo fare una dichiarazione di voto e poi la faccio veloce però riguardo al secondo punto che è quello mi sembra che è il confibus della questione circa il voto di impegnarsi per la realizzazione della nuova sede operativa a Pistoia individuando alcune possibili sedi da proporre al consorzo che si tratta non si tratta come lo sa di essere fare degli interessi ma di come dire di essere parte di gente nel ma anche nostra se fosse del comune se fosse un sindaco è come dire un moltiplicatore di informazioni nel senso che conoscendo il territorio sa quali sono alcune realtà può eventualmente presentare un ventaglio di soluzioni senza essere direttamente parte interessata ecco questo punto mi sembra che sia assolutamente in linea con quello che lei ha rappresentato perché i giochi sulla sede di Pistoia alla luce anche del quadro che lei ha descritto non sono assolutamente definiti e forse avere anche una mozione dove tutti vanno in una certa direzione la mozione quindi ha il peso del tutto il consiglio comunale la vedrei come elemento positivo ma questo indipendentemente ora dalle questioni proprio è stato il suo intervento a squarciare dei vedi rispetto a tutta la vicenda e anche al ruolo che Pistoia non deve più sostenere quando arriva nei contesti regionali se lo ricorda insomma su Publiacqua le vicende che ci sono state e che continuano ad esserci perché noi di fatto nonostante il cambio siamo sempre lì ora sul consorzio effettivamente avere un documento che comunque che ha il peso di un consiglio comunale mi sembrerebbe non mi sembrerebbe non toglie il condizionale ritengo assolutamente che sia un elemento di valore per questo il mio voto è favorevole ancora più favorevole dopo le informazioni che ci ha da festinza e mi auguro che diventi veramente il documento di tutti bene grazie allora ritroviamo con il capogruppo Trifi se ci sente io vi sento non so se mi sente ora sembrerebbe meglio prego mi sa che l'ho detto troppo presto no no capogruppo non la sentiamo ci sono altre dichiarazioni di voto in attesa sì presidente prego consigliere capogruppo Maglione sì grazie perché intervengo ancora perché quanto appunto ci ha raccontato il sindaco e tra l'altro ci ha anche fornito degli elementi conoscitivi ulteriori perché rispetto alle ragioni per cui il comune di Cristoia si era espresso in maniera contraria alla proposta del consorzio io avevo chiesto spiegazioni in commissione e quello che ci ha detto oggi è sicuramente un ventaglio di motivazioni più ampio rispetto a quello che invece era emerso in commissione pareva appunto ridursi sostanzialmente alla questione mobile che tutte le altre questioni fossero state comunque accertate dal comune di Cristoia come superate quindi non ci fossero pericoli appunto né per la qualità dei servizi sul territorio né per altre per nessun'altra ragione invece oggi il sindaco ci ha detto cose diverse e questo conferma il fatto che sia stato estremamente utile comunque avere in occasione di questa della discussione di questa mozione un ulteriore incontro e con il presidente del consorzio ma poi anche di conseguenza con lo sviluppo di questo dibattito prima in commissione e poi in consiglio perché veramente tante cose noi non non le sappiamo non credo per mancanza di volontà di approfondire questioni importanti ma perché evidentemente certe notizie non non ci giungono ma lo dico come considerazione di uno stato di cose se non in maniera polemica però dicevo e vado a concludere presidente perché quello che ci ha rappresentato il sindaco io posso anche in questo caso condividere molte delle perplessità che ha espresso circa magari le possibilità di un di un una collocazione immediata di alcuni immobili che si presume che poi verranno immediatamente locati quindi anch'io nutro forti perplessità e il rischio che poi magari i costi aggiuntivi ricadano sulle spalle poi sempre di pantalone e cioè dei nostri cittadini e dei nostri concittadini è veramente altissima c'erano anche questioni non era stato chiarito se i presunti incassi erano al netto di IVA quindi c'era anche un po' di mancanza di precisione nei dati forniti però al di là di questo questo è un pacchetto di considerazioni che non è da mettere in relazione con il punto 2 che è la questione di rimente della mozione non c'è nessun nessun punto di incompatibilità anzi c'è un quasi una conseguenza di quello che tutti noi dichiariamo di volere e quindi quel punto 2 della mozione va in quella direzione lì cioè nulla osta a che appunto venga condivisa approvata anche per dare una maggiore forza a tutto il a tutta l'amministrazione di Pistoia cioè che si ritrova unita nei confronti del soggetto quindi consorzio e chiudo Presidente cioè guardate che noi siamo intenzionati a fare il possibile per trovare una soluzione o aiutarvi a trovare una soluzione che sia anche interna perché anche in questo caso non ho avuto risposte in questa sede come come nessuno però io vorrei sapere se l'amministrazione ha fatto o potrebbe intendere fare una ricognizione sugli immobili che sono di sua proprietà che si ritiene possano essere adeguati alle esigenze del consorzio per cui ribadisco il voto favorevole del movimento e mi auguro che i colleghi condividano grazie capogruppo ci sono altre dichiarazioni di voto vediamo se il consigliere capogruppo a questo punto e allora prego consigliere pagliai non so non lo fa il nome del gruppo lo fa il titolo personale mozione atto rivolto a promuovere una deliberazione mozione proposta richiesta io nel 1964 non mi sono mai ritrovato a verificare che una mozione abbia avuto un esito concreto se qualcuno di voi è in grado di indicarmela me la punterò volentieri mi viene da sorridere quando un organo deliberativo magari all'unanimità vota un atto rivolto a promuovere una deliberazione di chi del consiglio allora il consiglio vota un atto rivolto a promuovere una deliberazione questo è in italiano e questo è oppure il consiglio fa la mozione per richiedere una deliberazione a chi io non ho parole io devo fare un atto di fede io nelle emozioni non ci credo non ci ho mai creduto sono esercitazioni bene grazie allora sentiamo un po' Tripi se adesso riesce a fare intervento altrimenti magari qualcun altro del gruppo può seguire proviamo un attimo con Valter e Tripi altrimenti provo io proviamo ancora Valter capo gruppo Tripi no non sente quindi consigliere Alberti che vuole fare lei la dichiarazione di voto ma sì la dichiarazione di voto naturalmente il nostro voto è favorevole perché il nostro intento troppi mesi fa era quello di richiamare appunto l'intero consiglio comunale in modo tale di preoccupazione proprio perché nella composizione del del nuovo consorzio Medio Valdarno ripeto con l'unione di tre consorsi più due comunità montane è evidente che tutto quanto veniva spostato più verso la zona di Firenze in questo caso da lì nascevano una serie di questioni intanto dello spostamento di alcuni dipendenti e poi quello di trovare una locazione funzionare per la piana pistoiesi ma questa storia il sindaco ce l'ha raccontata stasera ripeto cinque sei mesi fa abbiamo fatto questa mozione con l'intento proprio di arrivare a contare qualcosa a raccontare qualcosa in forme unanime il consiglio comunale dalla minoranza ma comunque perché siamo attenti a quello che era il nostro intento quello di riuscire comunque avere una dimensione del territorio poi l'individuazione delle sedi ecco lì c'è stata prospettata una sede in una zona della provincia di Pistoia dunque nella zona delliana probabilmente ci sono stati dei contatti che io non so nessuno di noi è riuscito a sapere fino all'altra sera o stasera anche con l'amministrazione comunale su una dimensione necessaria con un cubaggio naturalmente molto molto più imponente di quello attuale dove abbiamo la sede Pistoiese perché prima era il consorzio Brone Bisenzio e aveva una territorialità stretta questa è la necessità dunque l'intento della mozione e le mozioni non sono emozioni ma sono mozioni di intenti verso il consiglio comunale purché si faccia una forte azione di confronti in questo caso nel consorzio di bonifica poi ci entra di mezzo altre questioni la regione eccetera eccetera ma è questo modo di dire sempre che siamo l'ultimo ruota del carro noi bisogna porci davanti al carro e questa è l'intenzionalità di questa mozione non vorrei che fosse trasformata in una vicenda diversa la vicenda era solo questo il voto del partito democratico è fortemente favorevole perché questa era una mozione da rafforzare una posizione di tutto il consiglio comunale ognuno con la propria visione poi naturalmente stando sui fatti stando sulle ricerche degli spazi stando sull'accondizionamento dello spostamento di alcuni dipendenti eccetera eccetera sugli investimenti insomma io ho presiato una commissione nel 2018 ho fatto una commissione e abbiamo ottenuto dei risultati importanti tutti insieme naturalmente poi con la richiesta del consiglio comunale questa era un ulteriore che probabilmente si è discussa in momenti diversi e aveva fortificato l'assessore competente a rappresentare l'intero consiglio comunale dicendo noi siamo una parte importante della gestione del consorzio di bonifica questo era il fatto il fatto grazie bene grazie consigliere Alberti la chiesa interviene in indicazione di voto al sindaco prego sì grazie presidente assessori colleghi consiglieri ma io prendo atto che c'è una volontà comune ci mancherebbe altro del consiglio comunale che la sede rimanga a Pistoia che si costituisca una sede operativa che eventualmente razionalizzi e per operativa intendo sia mezzi operai che anche evidentemente tecnici in grado di progettare questa la riporto ma per me è un obbligo è un dovere un obbligo del consorzio ombrone cioè è un obbligo noi lo prendiamo come un obbligo che si mantenga questa sede poi ripeto non mi straccio le veste se è un chilometro due chilometri fuori dal confine di Pistoia lungo l'asse dell'ombrone perché se risulta più efficiente è chiaro è un obbligo che lo facciano e abbiamo rivolto la stessa domanda alla regione perché il membro della regione all'interno dell'assemblea non si è pronunciato ma vi assicuro almeno che non abbiano cambiato idea che ci sia forte perplessità all'interno anche della regione su questa operazione immobiliare di cui continuo a ritrovare anche altre risposte che ci vengono date in quell'occasione per esempio su via attraversa della Vergine dove peraltro concordano con me sul fatto che è difficilmente affettabile perché è confinante con l'immobile della protezione civile altra questione quindi quello va tolto da il più che in bilancio si è segnato quindi io però su questo spiace annuncio voto da stensione sulla non voglio confondere i piani il comune di Pistoia c'è per aiutare il consorzio a individuare ma è compito loro è dovere non si confondano i piani è dovere loro farlo perché è dovere mantenere sul comune di Pistoia la piana Agliana Quarrata dove è la miglior sede non mi voglio dificare perché anche un nostro dipendente qualche chilometro per lavorare lo può fare l'altra cosa è andare a Firenze e costringere i nostri concittadini per un problema andare a Firenze l'altra cosa è uscire un chilometro dal confine di Pistoia è una questione di territorio ecco non voglio che si confondano i piani noi l'abbiamo già detto col voto contrario in assemblea con la raccomandazione in assemblea che ha il loro dovere trovare la sede per ora ripeto i risultati sono quelli ci sono anche altre evidentemente questioni a cui nella lettera che vi ho letto non è stata data risposta rispetto ad alcuni pareri richieste anche all'interno del consorzio dell'ufficio legale ecco ora vado così ricostruendo la vicenda quindi noi votiamo l'astenzione e continueremo a monitorare come abbiamo fatto in questi mesi con l'assessore all'interno del consorzio che si porti a termine la sede al consigliere Maglione è evidente la prima il primo addirittura la disponibilità del comune di Pistoea con i propri immobili era stata data anche per un'eventuale sede in via formale non lo posso testare esattamente esattamente quindi la consigliere la sede per esempio lì vicina dell'Annona era stata in disponibilità da parte del comune in modo informale anche col presidente Bottino per trasferire gli uffici per trasferire anche quello che è stato a Firenze evidentemente quello che loro cercavano era un'altra cosa perché lì è comunque la destinazione urbanistica da modificare un restauro complesso un vincolo della sorrintendenza per una parte non è stato possibile benissimo ne prendiamo atto è ancora possibile non vorremmo mettere le mani nelle tasche dei cittadini un discorso è trovare una già pronta con pochi interventi da fare però gli immobili comunali sono stati tutti vagliati non solo per quella lo pagliamo quotidianamente per decine di richieste anche più assurde ma anche di altri enti come il nostro comunale o regionale territoriale quindi evidentemente non sono stati trovati anche perché sono elenchi che sono pubblici guardo lì perché guardo il mollo sto sperando e dovrei guardare forse di là bisogna prendere la mano quindi gli immobili comunali sono stati pagliati sono stati proposti al consorzio ecco ora evidentemente non ce n'è uno che ha quelle caratteristiche che possono servire a razionalizzare quindi il voto è di astensione grazie bene grazie ci sono altre dichiarazioni di voto non mi pare per cui riporto che ci sono i consiglieri scrutatori non vedo presente grasso per cui chiedo sembra la disponibilità della consigliera Nuti qui in presenza grazie mille quindi Nuti Misiano Manchia allora votiamo la mozione al punto 6 dell'ordine del giorno presentata da consiglieri comunali Trippi Alberti Fotti-Tucci del gruppo PD relativa aggiornamento lavoro consorzio bonifica nuova sede passo la parola al segretario per l'appello nominale sì sono le 18 e 53 chiederei al sindaco ah sì scusi l'abbiamo cliccato glielo dico glielo dico da qui che si sente bene può andare vale vale bene grazie perfetto sindaco grazie il tempo di votare e poi si risposta Gelli sì il mio voto è di astensione astensione sindaco Tomasi astensione grazie Pelagalli consigliere Pelagalli Francesco consigliere Pelagalli Francesco consigliere Pelagalli Lucè consigliere Gallagalli Lorenzo astenuto consigliere Svele Gabriele astenuto consigliere Accapecchi Francesca astenuta consigliere Sitori Gessica astenzione consigliere Accapecchi Emanuele astenzione consigliere Vannele Vannele astenzione segretaria consigliere Misiani Icela astenzione consigliere Arasio Fabio astenzione consigliere Amelichel Benedetta sì astenzione consigliere Boiola Jacopo consigliere Boiola Jacopo consigliere Boiola non c'è consigliere Pagliai Gianpaolo consigliere Pagliai Gianpaolo consigliere Pagliai non c'è consigliere Amasini Barbara buonasera segretario mi astengo grazie consigliere Manchia Parizia mi astengo segretario consigliere Nazio Francesco io voto contro contro bene consigliere Cervini Cervini Cinzia sì sono contraria consigliere Belli Alessandro consigliere Belli Alessandra consigliere Belli non c'è consigliere Calzolari Paola sì io voto contro consigliere Vespini Jacopo consigliere Vespini Vespini Jacopo consigliere Vespini non c'è consigliere Maglione Nicola favorevole consigliere Trini Walter consigliere Trini Walter il voto è favorevole spero che mi si veda e mi si senta sì sì sento è vero perfetto consigliere Tucci Mario sì il mio voto è favorevole consigliere Alberti Alvaro favorevole consigliere Cotto Favorevole consigliere Grasso Giovanni Battista consigliere Grasso Giovanni Battista consigliere Grasso non c'è consigliere Bartini Roberto il mio voto è favorevole consigliere Cenerini Alessandro consigliere Cenerini Alessandro consigliere Cenerini non c'è consigliere Breschi Carla consigliere Abreschi Carla consigliere Breschi non c'è consigliere Cori Gabriele consigliere Gordo Gabriele consigliere Cori non c'è consigliere Anuti Tina sono favorevole bene consigliere Bonacchi Federica consigliere Bonacchi Federica la consiglia di abbonacchi non c'è la consiglia di abbonacchi non c'è allora mi risultano 23 presenti di cui 7 favorevoli 3 contrari e 10 e 13 astenuti va bene consigliera consigliere Misiano si confermo consigliera Manchia confermo consigliera Nudi confermo dottore Vangelisti confermo dottore Vangelisti confermo bene perfetto Presidente bene grazie allora la mozione al punto 6 dell'ordine del giorno è respinta abbiamo terminato sono le ore 19 abbiamo terminato il consiglio comunale ringrazio nuovamente i tecnici di supporto perché mi sembra sia andato tutto veramente liscio per cui grazie e ringrazio anche i consiglieri che hanno deciso di essere in presenza pensavo ci fosse una presenza maggiore questo devo dire anche essendo il primo consiglio comunale diciamo in questa modalità però così non è stato ci ci rivediamo presumibilmente il 4 ottobre vediamo lì cosa succederà e poi più avanti decideremo come organizzarci grazie a tutti e buona serata buona sera buona serata buona serata ora che è terminata la direzione buona serata a tutti